Benvenuti all'Eredità tra poco, buonasera Giovanna, naturalmente vi aspettiamo per giocare insieme ma come sempre l'apertura dell'Eredità cosa ci sarà? Baci baci baci, vi aspettiamo a tra poco Eccoci qua, buonasera, buonasera Giovanna, buonasera Allora, ieri devo dire grave puntata dell'Eredità grazie ai nostri concorrenti in maniera particolare a Guia, questa ragazza giovanissima di Roma, 18 anni, bravissima, è rimasta con noi 7 puntate e proprio ieri ha portato a casa 50.000 euro, 100 milioni delle vecchie lire con grande merito perché ha dimostrato di essere tanto giovane quanto brava e preparata Andiamo a rivivere proprio gli ultimi secondi di ieri sera da pelle d'oca Guardate Per 50.000 euro, 100 milioni delle vecchie lire La risposta esatta è Come è Miro Ammiraglio E' un fatto 50.000 euro Brava, 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 brava Buia Brava campionessa Campionessa Brava, veramente brava questa ragazza Siamo proprio contenti per lei Quindi da questa sera puntata Completamente nuova con sete concorrenti e vediamo che cosa accadrà Baci 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 Allora facciamo gli auguri di buon compleanno a Federico che compie 5 anni di San Nicola a Manfredi Benevento Baci 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 Poi salutiamo le fedelissime Martina 9 anni e Alice 3 anni e mezzo che ci seguono tutte le sere Baci 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 a tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono Poi salutiamo e ringraziamo di questi due disegni Sì, come no, prego Devo far vedere questi due disegni Benissimo, veramente Letizia, 6 anni e il suo fratellino piccolo Lorenzo di Milano Guarda, uguale, guarda Siamo uguali, brava Grazie Baci 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 E poi aspetta ne approfitto per salutare un gruppo di Borgo, Sesia e di Biella Che sono venuti a vedere la trasmissione Ben arrivati, ben arrivati Pronti? Come? Giochiamo Giochiamo, giochiamo, prego, prego Accomodatevi I nostri concorrenti di oggi Primo concorrente, esattamente Matito Matito Matito, sì Il maschile di Matita Proprio lui Matito Sì Proprio a... Matito, Matito, non da sempre però No, sì Sei stato anche Pennino, sei stato... Sempre Matito invece Sempre Matito Sempre Matito Spero di essere ancora un bel po' Per tutta la vita, perfetto Villa Mezzano, frazione di Brisighella, Ravenna Sì Laureato in Ingegneria, gestionale, lavora in una società di ingegneria e si occupa di qualità Sì Bene Mi è pianzato con Annalisa da quasi tre anni Sì, da quasi tre anni Ti chiama Matito anche lei? Mi chiama Matito anche lei Beh Dipende dalle volte Dipende dalle volte, certo Ma Matito va bene, quando dice Matito va bene Certo Nell'intimità lo chiami Matitino o Matitone? No, che no No, voglio dire Come lo chiami? Dipende sempre dalle volte Sempre, sempre, sempre Ho già fatto lei Allora Matito Ma Matitino l'ho mai sentito Prima domanda Eccolo In un gruppo musicale Chi può usare una spazzola per suonare il suo strumento? Il bassista o l'altro? L'altro L'altro Batterista, infatti È una sorta di penne quella con i fili metal Bravo Matito La risposta esatta Italo Buonasera Italo Buonasera Mateo È stato per 14 anni ufficiale della marina mercantile Ha girato anche tutto il mondo E oggi è manutentore tecnico per una ditta di patatine fritte Che subito hanno detto anche in redazione Vuol dire che assaggia le patatine Dicono È un gran bel mestiere È un gran bel mestiere Devo dire Avere a che fare con le patatine fritte Italo Prima domanda Dimmi Quale stato asiatico Per le sue dimensioni È chiamato anche subcontinente India Cina o l'altro Quindi l'altro Perché è proprio l'India Bravissimo Italo Hai visto che ha girato Silena Oggi tutti i nomi strano Matito Italo Silena Ciao Silena Silena è nata ad Ancona Vero? Vive a Osimo Quindi un po' più in su Un po' più in alto Conosco Sempre provincia di Ancona Ed è Maschera al teatro delle muse di Ancona Sta per laurearsi in ingegneria meccanica In studio c'è la mamma Milvia Buonasera Milvia Buonasera Ormai Silena Che è un nome atipico insomma Perché ho sognato che facevo una figlia femmina E che la chiamavo Silena Quindi per questa ragione Tutto corrisponde Femmina e quindi a quel punto non poteva che chiamarsi Silena Bene Silena prima domanda In botanica l'insieme dei peli che ricoprono i fusti e le foglie di una pianta si chiama indumento o l'altro? L'altro L'altro vestaglia il termine come dire tecnico botanico è proprio indumento invece Un errore Silena La Mercedes o Mercedes No E la Porsche perché il signor Porsche scelse il cavalino rampante emblema di Stoccarda E la città tedesca dove ha sede proprio la fabbrica Mi dispiace Angela un errore eccolo ho segnalato Gabriella Buonasera Allora Gabriella esattamente da dove? Da Milano Da Milano quindi gioca in casa Ex educatrice in una scuola materna sposata con Giovanni E mamma di Tiziana e Valentina e nonché nonna di Sara Allora Gabriella In quale corrente artistica i quadri dipinti sembrano essere vere e proprie fotografie? Nel surrealismo o l'altro? Surrealismo Surrealismo L'altro iperrealismo Iperfantucci Buonasera Buonasera Ci dica, ci dica un po' Beh diciamo abbiamo due cose molto diverse Senza surrealismo è una realtà in qualche modo artisticamente distorta Può essere da lì da un certo punto di vista ma gritto dall'altro come quadri Sì E invece come dice anche il termine stesso Iperrealismo sono quella tecnica di pittura spesso fatto con l'erografo Che riproduce la realtà in maniera veramente fotografica perfetta Sono dei quadri veramente quasi impressionanti a vedersi Quindi è iperrealismo Più reale Mi dispiace Gabriella è un errore Ecco l'ho segnalato Ma è il primo L'importante è non farne e non commetterne due Ed ecco c'è Emanuela nella posazione della campionessa Vice campionessa Emanuela ieri Molto brava Emanuela Per un attimo devo dire Queste sono le cose come sono accadute Hai perso proprio alla fine Negli ultimi secondi E in qualche maniera poi Gui è diventata campionessa Forse una casa a 50.000 euro Allora vediamo Potrebbe capitare a te questa sera Magari Magari Emanuela ricordiamo dalla provincia di Macerata Morroval Dentista di lettere moderne Le piacerebbe fare l'illustratrice di libri per bambini E' tesa, emozionata Emanuela Anche se siamo alla seconda puntata è uguale a ieri Sì Va bene Proviamo Prima domanda Quale peccato capitale Commettono le persone lascive La lussuria o l'altro? Lussuria Lussuria L'altro è superbia No E invece è proprio la lussuria Brava Secondo giro Matito A Napoli Nei banchi di pere e musso Giusto Banchi di pere e musso Pere o musso Come? Opere o musso Opere o musso Ecco Pronunciato così a me Nei banchi di opere o musso Si vende la carne bollita Del piede e del musso Opere o musso Di qual animale? Del maiale o l'altro? Del maiale Maiale L'altro è l'asino La risposta esatta è È proprio il maiale Opere o musso del maiale Bravo Matito In quale città italiana Nel 1999 è stato inaugurato il secondo stabilimento della Zecca di Stato Napoli o l'altro? L'altro L'altro Roma Esatto La Zecca di Stato opera Roma In due stabilimenti Brava Silena Attenta Angela perché è un errore Quanto pesava la nascita ad Emilton Non il ballerino eh Ad Emilton detto il bambino gigante venuto alla luce lo scorso gennaio Otto chili e tredici o l'altro? L'altro L'altro Sette chili e cinquantate In ogni caso è un bambino Enorme Enorme La vera mamma L'hanno iscritta alle medie subito È nato in Basile con parto cesario E proprio la madre ha detto scusate non saprei come fare se no Ed è il quinto figlio di Francisca Ramondo Santos Un medico l'ha subito soprannominato il bambino gigante E con la bellezza di sette chili e cinquanta Pensate che è nato con un peso che equivale a quello di un bambino di sei mesi Sono mamma e figlio sono in ottima saluta Già il bambino parla Ringraziato il tuo staff medico Ha detto grazie Un po' canterà Un po' canterà Sì sì Quindi fra un po' Siamo tutto a posto Brava Angela La risposta esatta Attenta Gabriella un errore eh Che termine compare sullo spartito quando un musicista deve suonare più forte Alzando o l'altra Alzando Alzando L'altra crescendo Purtroppo alzando non esiste Crescendo Crescendo Hai Gabriella doppio errore A rischio di eliminazione Gabriella da Milano ma non ancora eliminata Deve scegliere la persona con la quale naturalmente scontrarsi e sfidarsi nel primo duello Angela Angela Duello tra Angela e Gabriella Angela accompagnata da Da loro Dal pubblico Sì sì Angela da Bari lo ricordo quindi la Puglia che so Che ci segue con grande affetto E' un affetto reciproco Allora Angela La A di Angela La A di Angela Sì ma vediamo se è una lettera che ti può portare bene E soprattutto far continuare Negli Stati Uniti d'America Non c'è nessuno stato chiamato South Carolina North Dakota O Es Colorado Ho notato la pronuncia per agevolarti Es Colorado North Dakota Esiste South Carolina North Dakota No esiste la East Colorado Of course Very 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 good Brava Angela Angela Si prende la parte di eredità di Gabriella 100.000 euro per Angela quindi Che continua l'avventura Gabriella Saluto La scatola del gioco delle eredità è tua Grazie Molto gentile Grazie a te per essere con noi Ci state eliminata Ciao Allora E' il momento di partire di Emanuela Con Il vero falso Ma prima si balla un po' Grazie a te per essere Applausi Per le nostre ragazze Per il nostro Corra Faliballo Ivana Claudia E Ombretta Brave Allora Angela A meno che non vuoi ballare anche tu Devi giocare Dunque Ah no Vado da Emanuela Vero o falso? Totò E Alberto Sordi Non hanno Mai Recitato Nello stesso film Vero o falso? Vero E invece no Hanno girato insieme Un film solo Totò e i rei di Roma Nel 51 Un film comico Diretto da Steno E da Mario Monicelli Ahiaiai Emanuela Un errore Eccolo Ho segnalato Matito Sì Le vasche delle fontane Sono anche chiamate Cucchiai Vero o falso? Vero No Sono chiamate tazze Ahiaiai Un errore anche per Matito Ehi L'ho segnalato Italo Dimmi Nella discoteca di Stato Tra virgolette Si può ascoltare musica Sino a 8 ore al giorno Vero o falso? Falso E invece è vero Non è un locale da ballo Tra virgolette Appunto l'ho detto È la principale collezione pubblica Di documenti sonori Si trova a Roma Dispone di oltre 200.000 opere Tra dischi, nastri, cd ecc Ed è a disposizione del pubblico Delle salette Dove poter ascoltare Naturalmente la musica Un errore Italo Eccolo segnalato Silene Nel suo resoconto della guerra civile Giulio Cesare parla di sé Usando il plurale maestatis Vero o falso? Vero No, falso Era più modesto, no Santucci Non è che diceva No, beh perché Giulio Cesare conquistò No, cercava di descrivere tutti quanti i fatti In maniera oggettiva E quindi parlava alla terza persona singolare Quindi si tirava un po' fuori Insomma E il premaestatis ovviamente è la prima persona plurale Noi siamo Noi siamo Sicuramente è un mammifero velocissimo Può arrivare anche a 115 km orari Il limite è 130 E quindi insomma anche Può arrivare anche a 120 in discesa il diopardo Con la ricorsa 125 Eh, mi tolgono la cosa Mi dispiace Angela, un errore Ecco lo segnalato Attenta Tutti un errore Tutti un errore Vediamo allora chi commette il secondo Emanuela In Arabia Saudita Non ci sono Fiumi o laghi Perenni Vero o falso? Falso E invece è vero Ci sono dei corsi d'acqua Che però costantemente Nei periodi più aridi Si prosciugano Addirittura Spariscono E questo vale anche per i laghi Ah Noela che facciamo Che facciamo Conto chi puntiamo il dito? Ehm Non so Silena 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 B Eh? B B Già B Vabbè B Non vuole parlare Non vuole discutere Non c'ha fretta Deve andare ad Osimo Io frega niente B Mi hai fatto di voglia di ciauscolo Guarda in questo momento Buono 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 Eh Vediamo Andiamo a leggere Via l'A e via la C Nell'impollinazione cosiddetta Anemogama Da cosa è trasportato il polline? Dal vento Dall'acqua O dagli animali? Dal vento Dal vento Emanuela cosa avresti detto? Mi sembra vento Però potrei sbagliare Non so Vento anche per te Santucci Quante impollinazioni ci sono? Quanti tipi? Tenendo fuori pari sotto Tre tipi Tre tipi Quindi sarebbero Sempre tre Guai Sempre tre Diciamo Allora abbiamo L'impollinazione Tramite animali Che si chiama Zorogama Ed è il caso dell'ape Con i fiori L'ape Da un fiore all'altro E trasporta il polline Poi abbiamo Un'impollinazione Che si chiama Idrograma Ed è il trasporto Dell'acqua Quindi l'acqua Prende il trasporto Al polline E abbiamo L'anemogama Che è quella Con il trasporto Al vento Come gli alberi Per esempio Quando ci sta Il polline Che vanno nell'aria E un'impollinazione Anemogama Quindi Silena Ha dato la risposta Esatta Emanuela Emanuela Consegni la tua parte Di eredità A Silena Quindi sale Silena 100.000 euro E ne devo aspettare Noi va a Osimo Mentre Emanuela Ci dobbiamo salutare Grazie Ringrazio tutti voi Grazie a te Ahimè Sei stata Eliminata Ciao Ciao Emanuela Brava lì Silena da questa parte Grazie Dunque Siete in quattro Patata bollente Matito sei pronto? Pronto Eccoci qua Tre opzioni di risposta DJ Francesco Gianluca Grignani Piero Pelù Potrebbe sembrare Una domanda musicale Ma sai che a volte Le risposte Non coincidono alle domande La passo A chi? A Selena A me nel mare giù Selena Silena 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 Come l'hai chiamata? Serena Selena Selena No Gli poi gliela passo Già che Dai la più bella A Selena Gliela passi Selena Te beccati Questa domanda Eh rifatto La esce un po' grossa Mi dite scusare Eh? La esce un po' grossa Mi piace la esce grossa Però Elena E basta Si lascia Sono romagnolo di nascita Quando sento un romagnolo Sono contento Allora Silena Chi di lavoro per amore Chi di loro Scusa Chi di lavora Siamo messi bene Chi di loro Per amore Si è fatto tatuare Il codice fiscale Della fidanzata Piero Pelù Piero Pelù Ma si Cosa avresti detto Ma io avrei detto DJ Francesco DJ Francesco Ah pensando al codice fiscale Di Da Ida No boh mi sembri più Era la fidanzata Quello che gli prendeva bene Dice un tatuaggio Più no meno Io non so Si Allora In onore della fidanzata Antonella Porta sul bicipito Un tatuaggio A bracciare Con il codice fiscale Proprio Piero Pelù Brava Silena L'errore ha matito L'errore ha matito L'errore ha matito Italo Attenzione 36 42 48 Me la tengo E già Escludendo i jolly Quanti occhi si contano In un mazzo In un mazzo di carte Francese 42 42 Come hai fatto a Dimmi 42 Ti sei buttato? Sai quando capitano Queste domande Matematiche Dove uno in 4 secondi Fare un calcolo Impossibile 12 34 40 Sono 4 Figure 14 Figure 4 No 3 figure 3 Aspetta 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 Lo so in spagnolo No In spagnolo No Parliamo in spagnolo Parliamo in spagnolo Sono 4 palos Si 4 palos E 3 figure per palo E 3 figure per palo Aspetta Quindi 4 per 3 Faccio brutta figura Con la mia professoressa In matematica 12 in italiano 12 12 12 Per 4 Per 4 48 48 Basta Hai perso Aspetta C'è sto capigno Abbiamo fatto un calcolo E viene 48 Tu mi hai detto 42 Meno male che uno Non ha tempo Di fare i calcoli Perché quando si butta In meglio 42 La risposta Esatta Bravo Italo Santucci C'è un colpo di scena Che mostriamo Allora vediamo un po' Perché alcune carte In realtà sono di profilo E quindi si vede Solamente un occhio Siccome sono Come dire La parte superiore E la parte inferiore Il calcolo viene 42 Adesso vediamo solamente Metà della carta Ma c'è un occhio anche qui sotto Certo Quindi visto Italo Velocemente il calcolo È venuto bene Poi è Meglio l'ho fatto Stando a metà Perché bisogna stare sempre Sempre a metà Ma a metà Ho preso quella Mi sono buttato a metà Benissimo Infatti è la risposta esatta Bravo Italo Grazie Silena Pisa Siena Livorno La passo A chi? Angela Ad Angela Allora nessuno dei due Ha errori Quindi una dei due Avrà sicuramente Il primo errore Angela Nei pressi di quale cittadina Si svolgevano Le olimpiadi Dell'antica Grecia Tempo Siena 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 Cosa avresti detto Silena Forse Siena Anch'io Forse Siena Anche tu Pisa Come è Matito? Per me è Pisa Perché? Perché non sembra Che in Grecia Sto era un po' Che si chiamava Pisa Come Angela? Non lo sapevo proprio Non lo sapevi proprio Era il nome di un antico centro dell'Elide A regione della Grecia Nel cui vicinanza Sorgeva Olimpia Il luogo dove venivano disputate Le olimpiadi del mondo antico E la risposta esatta Come dice Matito È proprio Pisa Mi dispiace Angela Un errore Eccolo segnalato Allora Ad avere un errore Angela e Matito Mentre Silena e Italo Nessun errore Mi fermo da Angela Che Adesso è importante La decisione che prenderà Cezanne Toulouse Monet La tengo La tengo Allora non puoi sbagliare Altrimenti commedi il doppio errore Quindi a rischio di eliminazione Come si chiama Il gatto pittore Nella versione originale del film Gli aristogatti Monet Monet Parliamo dell'originale del cartone Della Disney del 70 I gattini Matisse Bizet E Minou C'è Questi sono i nomi Della versione italiana E poi Il pittore Allora Nella versione francese Quindi Origina del film Santucci Nella nostra versione Sono Matisse Bizet Minou Nella versione originale Della Disney Si 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 chiamano Toulouse Come il pittore Toulouse Dutrec Belliot Come il compositore E Marie Ah i nostri Matisse Bizet Minou Sono Toulouse Belliot Quindi Toulouse Era la risposta esatta Angela Doppi errore Eh Non è facile Ricordare la versione originale Adirittura Ricordata Esatto Quella nostra Infatti Perché non si sapeva Certo Angela Doppi errore Punto il dito contro Matito 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 Come va la fidanzata Tutto bene Ehi A lei va meglio Ci siamo Ci siamo Bene Allora Caro Matito Allora Dico B di Birra Vestanen Eh Di che B di Birra Vestanen Birra Vestanen È il nome Della festa della birra Che organizziamo Nel nostro paese Ah A luglio Quattro giorni Quattro giorni Quattro giorni Di festa della birra Tipo Oktoberfest Come dire L'ospirazione è quella Però l'abbiamo un po' Romagnolizzata Romagnolizzata Quindi sarà ancora più Come dire C'è un po' Tuttura tedesca Romagnola Un po' di piada Non manca Piada sempre Mi raccomando Non manca Ricordiamo dov'è Perché andiamo a trovarla A terza settimana A terza settimana di luglio A Villa Vestano Di Brigighella Provincia di Ravenna Perfetto Quindi lo aspettiamo tutti Saremo tutti là Tutti là Quattro giorni Ragazzi Mi metti a fare Già da adesso Va bene Grazie Che una birra Ti scappa sempre Ma come no Guarda Birra e piada Io l'adoro Quindi Ma dito Andiamo a leggere La domanda Sui semafori pedonali Compaiono due parole Avanti e Stop Alt Fermo Hai 30 secondi Rifletti Dico Alt Alt Avevi il dubbio Con Stop E' vero? Infatti Fermo non è Angela cosa avresti detto? Alto o Stop? E' alto Alte? E' proprio Alte La risposta esatta Bravo Matito Ti prendi la parte Di eredità di Angela E quindi Matito Sale Ovviamente Di 50.000 Di 100.000 Arriva a 150.000 Angela Grazie Grazie a voi Buon ritorno a Bari Buon ritorno a Bari Si è stata eliminata Ciao Angela Silena lì Silena Matito E Italo Avremo sicuramente Questa sera Un nuovo campione Una nuova campionessa Ma ora E' il momento Della Scossa Giovanna Eccoci Giovanna Eccoci qua Siamo pronti per un Spider-Man Sì Siamo prontissima Prontissima Quindi E' il momento Della Scossa E poi Siamo pronti per un 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 Cosa fa passare l'appetito alla maggioranza degli italiani quando sono al ristorante? Che proprio vedi una cosa e ti è passata la fame. La sporcizia in cucina, ammesso come dire che si riesca a vedere la cucina, l'aspetto degli altri clienti, i pavimenti non puliti, i camerieri trascurati, le posate sporche, i mobili in cattivo stato, i cattivi odori, il personale che mangia, i bagni in disordine, le tovaglie macchiate. E qui c'è solo imbarazzo della scelta per farti passare l'appetito, non è che uno, diciamo che uno maggiormente, è stato fatto proprio un sondaggio di un istituto, vero? Nell'istituto Britannico Mori. Allora, attenzione Matito, cominciamo a dire che non è la cosa che ti fa passare l'appetito? Diciamo l'aspetto dei clienti. L'aspetto di che? Che ti importa di quelli che ci sono? Se uno fa come vuole, ognuno va, c'è ancora una certa libertà, quindi non è che uno deve andare al ristorante per forza scossa. Bravo Matito. Infatti è l'ultimo posto perché nessuno ha risposto. Chi se ne frega, come dire, insomma, ognuno poi si veste come vuole, quindi si acconcia come vuole, perché sia un'educazione, un ristorante, però l'aspetto dei clienti per la gente è ininfluente. Meno male. Bravo, meno male, giustamente dice Matito. Attenzione Italo, rifletti, rifletti e la risposta me la dai tra poco quando riprenderemo a giocare alla scossa, naturalmente, è l'eretà tra polizia. Eccoci, tornate alla scossa, abbiamo appena iniziato a giocare con i nostri tre concorrenti, Silena, Matito e Italo. Cosa fa passare l'appetito alla maggioranza degli italiani quando sono al ristorante? Datemi, dice, l'indirizzo, dicevano il nome di questo ristorante, che non ce ne andiamo perché con tutti questi aspetti negativi. Sporcizie in cucina, l'aspetto del cliente abbiamo visto no, non è un elemento importante a tal punto da far passare l'appetito. Pavimenti non puliti, camerieri trascurati, posate sporche, mobili in cattivo stato, cattivi odori, personale che mangia, bagni in disordine, tovaglie immacchiate. Allora, avete avuto diversi minuti per riflettere, non è? Io direi immobili in cattivo stato, immobili in cattivo stato, vediamo, scossa, no, che è importanza, no, poco importante, immobili in cattivo stato, perché come dici si mangia bene. Silena, non è? Ma il personale che mangia? Il personale che mangia, poveri, se poi vai a mangiare molto presto, magari stanno mangiandoli da una parte, quindi... addirittura va a farti passare l'appetito, se mangiano loro quello che poi mangi tu, vuol dire che è un buon segno, eh? Scossa? No. Brava, com'è? Quarto posto con il 23%. Ah, è un po' snob questa risposta, perché se no il personale che mangia ti fa passare l'appetito, addirittura al quarto posto con il 23%. Con il 23%, non avrei mai detto questa cosa, non avrei mai detto. Anche perché in solito il personale mangia o molto presto o molto tardi, come dire, in modo da evitare che non ci sia molta clientela. Ma forse mentre lavora, mentre ti porta... Ah, ecco, forse sei inteso così, sì, certo. Se assaggia quello che ti porta sul piatto, certo, è naturale. Se lo vedi in cucina che sta mangiando una delle tue cinque polpette, un po' dici, eh no, io ne devo aver cinque perché io glielo te la mangi tu. Ci presento col piatto. E insomma, quello mi sembrava un po'... Matito, non è? Dico, la 1 sporcizia in cucina. Sporcista in cucina che è una nuova bella tosta, eh, perché la cucina sporca, vediamo un po' scossa... No. Non è, bravo Matito. È al secondo posto con il 32%. Eh sì, ragazzi, una cucina sporca è preoccupante, proprio. Italo, non è? Io direi pavimenti non puliti. Pavimenti non puliti. Tanto non si vede. Stai mangiando, il tavolo dovrebbe coprire gran parte. Dovrebbe, dovrebbe. A meno che... A meno che... Allora, vediamo un po'. Scossa. Bravo Italo, come siamo messi? Ottavo posto con il 9%. Sì, non guardano troppo. Guarda se c'è una presaula del giorno prima lì per terra, lasciala lì, che ti importa? Silena. Non è? Sullo stesso filone le tovaglie macchiate. Le tovaglie macchiate. Scossa? No. No. Non è bella da vedere. Però è al settimo posto con il 10%. Fettino posto con il 10%. Brava Silena. Brava. Mattito. Dico bagni in disordine. Bani in disordine. Si dice che anche un bel ristorante si vede già dei bagni, no? Quando, al di là ovviamente della cucina. Però un ristorante che ha un bagno ordinato, già c'ha insomma, voglio dire, una considerazione maggiore. Vediamo un po'. Scossa? No. Bravo, Mattito. Sesto posto con il 13%. 13%. Beh, devo dire che i bagni delle donne sono sempre più ordinati dei bagni degli uomini. Questo... No, no, no. Lo faccio perlo. Come faccio perlo? Perché io vado a fare la piccola delle donne perché li trovo più puliti. Perché li trovo più puliti. Scusa. Quelli degli uomini sono sempre più disordinati rispetto a quello delle donne. Almeno io ho notato questa cosa. Eh sì. Perché avendo una bambina la porto in bagno in quella delle donne. E quindi verifico che è quella delle donne. Quando poi io vado in bagno... Sì, tante volte magari la devi sollevare. Ah, quante volte la devi sollevare e esci sempre dal bagno così? Eh, la devo sollevare, certo. Però anche il bagno degli uomini spesso... Vabbè, vogliamo parlare di bagni così? Allora, non mi ricordo più. C'ho preso. Bravo, Mattito, bravo. Vito. Ci sono tre scelte che... Che mi dici? Posate sporche. Posate sporche. Mamma mia, la posata sporca. Ah! Cosa? No. No, terzo posto. Non è al primo posto. No, terzo posto con il 30%. Terzo posto con il 30%. Quindi al secondo posto c'è la sporcizia in cucina e al terzo posto le posate sporche. E in effetti tra sporcizia in cucina e posate sporche devo dire che c'è una bella gara. Ma c'è qualcosa di peggio. C'è qualcosa di peggio. Silena. Il peggio è il peggio. Brava, Silena! Come siamo con i camerieri da scurati? Cattivi odori al quinto posto con il 19% e camerieri trascurati il 49%. Ragazzi, camerieri in un ristorante è una grande importanza. Con unghia nera. Cioè, non specifichiamo che cosa hanno di trascurato l'abito sudico. Un cameriere che si presenta deve avere un apportamento. Adesso è una persona ordinata, pulita. Quindi è ovvio che è la prima persona che magari ti dà il benvenuto in un ristorante che ti accompagna al tavolo. E quindi deve essere insomma... Ma fortunatamente devo dire che noi girando i ristoranti vediamo che ci sono camerieri di ottimo livello. E quindi insomma, ne approfittiamo per salutare tutti i ristoranti, tutti i camerieri che ci stanno seguendo. Bravi tutti e tre! Bravi tutti e tre! Quindi ci vuole un'altra bella scossa. Questa è veramente bella, eh! In base alla classifica stilata dal professor Stanley Cohen, qual è la razza di cani meno intelligente? Noi diciamo, noi adoriamo i cani, gli animali in genere, i cani poi insomma in maniera particolare spesso facciamo degli appelli dove le persone che hanno un cane li devono insomma amare tutto l'anno e accudire veramente come uno di famiglia, assolutamente. Deve essere proprio uno di famiglia. C'è stato questo signor, questo professor Corine, è vero Giovanna? Anche ha stilato una classifica, ma scientifica, mica simpatie e antipatie. No, ha stilato questa classifica di cani in base alla loro intelligenza, prendendo in considerazione 110 diverse razze. Nel fare la classifica si è stata aiutare da una giuria composta da 199 esperti. Addirittura? Sì, e l'intelligenza dei cani è stata valutata tenendo conto della loro capacità di adattamento a diverse situazioni, di apprendimento e di memoria. Quindi è una ricerca scientifica. Vediamo le 10 razze di cani, che sono il Bulldog, Mastino, Pechinese, Levriero Russo, Braco, Chow Chow, Beagle, Levriero Afgano, Basenji, abbiamo parlato del Basenji anche qualche giorno fa, e Bassetown. Allora Mattito, Banzenji, il Basenji. Poi vediamo una foto del Basenji. Mattito, la guardiamo subito. Guardiamo subito il Basenji, vediamo com'è questo Basenji. Cosenji? Bravo Mattito, com'è messo il Basenji? Si trova, è il secondo classificato. Correto, è il cane che non abbaglia tra l'altro, che non sa abbagliare, poverino. Il Basenji non è che è proprio... Wow, è carino però, è carino. Ricordiamo ancora che la classifica è stata stirata in base alla loro intelligenza, prendendo in considerazione queste razze, poi diciamo in base alle diverse situazioni di apprendimento, di memoria, evidentemente il Basenji da questo punto di vista, insomma non è proprio... non si adatta a molte situazioni mai, però è molto carino. Quindi, Mattito, bravo! Italo, non è... Direi... Il Bulldog. Il meno intelligente non è il Bulldog. Vediamo. Possa! Che posizioni... bravo, che posizioni occupa? Terzo classificato. Anche il Bulldog! Si, guarda lì. Anche il Bulldog! E' quello no! Forte ragazzi. Eh, vabbè, però insomma i cani sono talmente belli che... Però il Bulldog, come il Basenji, non è considerato un cane proprio, proprio, insomma, intelligentissimo. Io ho degli amici che hanno dei Bulldog, però che sono molto carini, molto divertenti. Sirena, ami i cani? Allora, amo i cani, la mia vicina ne ha uno. Che cos'ha la tua vicina? Mi sa che è un incrocio. Ah, un incrocio, quindi. Secondo te non è, come dire, proprio... O meglio, non mi devi dire quello meno intelligente. Diciamo che quello abbastanza intelligente, secondo questo professor Coren, è... Il Beagle. Il Beagle. Cosa? No, che posizione ho qua il Beagle? E' all'ottavo posto. Eh, no, il Beagle! Vediamo il Beagle. Guarda lì. Ah, mi spesso... C'era la faccia dell'intelligente, eh. Però sveglia, attento, il Beagle, molto carino. Brava, Sirena. Mattito! Dico il levriero afgano. Il levriero afgano. Vediamo un po'. Scossa. No! Non mi dire che il levriero afgano è il meno intelligente, in assoluto. Vediamo il levriero afgano. E' bellissimo, certo. E' bello. La bionda. Passa la vita davanti allo specchio, secondo me, però è bello. La bionda. Però è bello. Assomiglia un po' all'amico mio, però... E' pentitato come il mio amico Gianfranco, guarda, quindi... Vabbè, questo insomma è un altro ragazzo, vale per ogni scossa, vale per ogni scossa. E come... Vediamo le foto degli altri, però, e per curiosità. Il mastino. E' al nono posto. E' al nono posto. Il mastino, vediamo... Bello. Bastino. Napoletano, naturalmente. Eh? Sì. Lo hai riconosciuto? Sì. È parente. No, vabbè, no, dico... ma vai anche lui poi c'è il pechinese che è al settimo posto è carino anche il pechinese i bambini che stanno seguendo naturalmente l'eredità si divertiranno a vedere i cani l'edriero russo al quinto posto è più intelligente quello russo di quello afgano pensa il russo quando incontra l'afgano è meno bello però è meno bello è meno bello quello afgano è molto chic quello russo è un po' più pratico poi cominciamo bracco e sesto in classifica sesto in classifica e bracco insomma è da caccia ciao ciao quanto è posto ciao ciao mica tanto secondo questa classifica ciao 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 parisotto ciao ciao no eccolo il ciao ciao eccolo il ciao ciao se no ci assomigliano poi poi bigol abbiamo visto ottavo posto il secondo il bassettown decimo posto il bassettown è quello il bassetto enorme diciamo il bassettown ecco immagino che i vari pastori tedeschi ha una classifica dei più intelligenti dei più intelligenti bene così come dire coloro che hanno questi campi ho il mio cano intelligente per esempio al primo posto il border collie il border collie il più intelligente in assoluto il secondo è il barboncino ah il barboncino si ma dai pensa che lo vedevo un po' 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 il terzo è il pastore tedesco il terzo è il pastore tedesco il quarto è il Gordon Retriever ah il Gordon Retriever bellissimo il quinto è il Doberman Pinksker credo il sesto è il pastore delle Shetland ah il pastore delle Shetland si e il settimo è il Labrador e l'ottavo è il Papillon è un cane da salotto dalle orecchie grandi che sembrano farfalle lo dico perché non lo conoscevo il Papillon poi il nono posto Rottweiler e il decimo il pastore australiano ok perfetto abbiamo fatto insomma abbiamo parlato di cani è sempre un piacere noi amiamo gli animali dico sempre amiamo i cani e trattateli sempre bene sempre bene se decidete di avere un cane è importante poi amarlo e trattarlo bene allora Italo Mattito e Silena ai 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 Mattito mi hai preso la scossa pensavo che gli afghani ne avessero di più invece che facciamo? eh che ne avessero di più di che? ah intelligenza intelligenza Silena o Italo? beh ormai ancora contro Silena ancora contro Silena contro Silena tu dirai Silena mica tanto cavaliere eh insomma eh dopo si prende i pisciotti si prende i pisciotti lo fa per te lo fa per te Silena ti pagherò una pizza troviamo? vediamo che succede? sì ok Silena A B o C? A A via la B e la C Silena ed ecco la domanda negli ultimi due anni i vincitori distratti ci sono quelli distratti delle lotterie nazionali quelli che perdono il biglietto quelli che si dimenticano quelli che non lo trovano più ma capitava anche quando c'era la schedina il totocalcio mamma mia certa gente che ce l'aveva il biglietto e non lo giocava tante cose insomma i giocatori vincitori distratti delle lotterie nazionali hanno lasciato allo Stato che ringrazia circa 2,6 milioni di euro 3,9 milioni di euro o 5,1 milioni di euro 2,6 2,6 milioni di euro ma Tito cosa avresti detto? visto che io non ne ho lasciati spero per l'oro che ci abbia preso o per lo Stato che ne abbia lasciato di più quindi 5,1 tu dici che siamo così un po' distratti un po' talmente distratti ricordando il famoso film con Paolo Villaggio no? lo lotterie di Capodanno certo se si dimenticò il biglietto il biglietto è vero attenzione gli italiani distratti hanno lasciato ovviamente vedete delle cifre notevoli allo Stato e ci sono milioni di euro che non sono mai stati riscossi dalle varie lotterie nazionali entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del bollettino di estrazione esattamente la cifra è strano ma vero 5,1 milioni di euro pensate quanto siamo distratti mi dispiace Silena ma Matito peraltro avrebbe dato la risposta esatta quindi consegni a Matito la tua parte di eredità Matito sale ringrazia 250 mila euro grazie Silena grazie a te grazie a tua sorella no a mia mamma alla mamma è talmente giovane che sembra tua sorella e fammi fare questo complimento alla mamma dov'è ecco la mamma ciao Silena grazie a voi si è stato eliminato ciao ragazzi allora dopo tante sfide al femminile una tutta al maschile tra Matito e Italo Italo alla mia sinistra e Matito alla mia destra accomodatevi ultima sfida ed eccoci quindi a una nuova ultima sfida tra Italo e Matito 50 mila euro Italo 250 mila euro Matito pronti? attenzione parto da te Italo che è la parte minore di eredità 70 secondi a testa 3 2 1 via prima domanda le uova di quale animale sono il surrogato del caviale Stuzzo Lompo Boa Lompo esatto Matito un brano di D'Andrea si intitola La guerra di Carlo Piero o Andrea Piero esatto Italo Il nome completo di Maradona è Diego Nando Sandro Armando Diego Armando esatto Matito Da quale lingua abbiamo preso l'espressione Unplaine inglese, spagnolo o francese? inglese no francese avanti l'intensità dei terremoti si misura con la scala Fahrenheit Rictel o Celsius? Rictel esatto Italo Dopo quanti giorni dalla morte è risuscitato Gesù Uno, due o tre? Tre Esatto Attenzione perché Matito ha commesso un errore quindi è 51 e 58 ma praticamente pari con Italo 51 e 93 Riprendo da Matito Domanda Hollywood è detta la mecca del Vuster Cinema o Surf? Cinema esatto Italo Oltre ai cuori quale seme delle carte francesi di colore rosso? Quadri fiori o picche? Quadri esatto Matito Il cantante che ha condotto tutti gli zeri del mondo si chiama Renato Tiziano Vasco Renato esatto Italo A chi si rivolge? Chi deve fare un rogito? Al medico? All'architetto o al notaio? Architetto No al notaio Avanti Di che colore sono le bacche del pungitopo? Nere, rosse o gialle? Gialle No Rosse Avanti In grammatica qual è il corrispettivo plurale di io? Voi Noi Essi Voi No Noi Avanti Qual è il cognome della cantante Mina? Crispi, Mazzini o Giolitti? Crispi No Mazzini Avanti Sulla bandiera francese ci sono tre strisce orizzontali, diagonali o verticali? Orizzontali No Verticali Avanti Che tipo di fiore è la pratolina? Margherita, Violetta o Primula? Primula No Margherita Ah Italo Che è successo? Mamma mia Ricordiamo che Italo, certo non è italiano, Italo è da due anni, però insomma l'emozione, qualche errore di troppo di Purtroppo niente da fare Italo, ma l'applauso va a Matito che zitto zitto diventa campione questa sera Italo ci vediamo domani, grazie, grazie Italo e andiamo alle ritagli con Matito Ciao a Matito Ciao a Matito, accomodati Comodo Dalla provincia di Ravenne ricordiamo esattamente da? Da una frazione del comune di Brigighella che si chiama Villa Bezzano Brigighella Villa Bezzano, bellissimo Ne approfitto per salutare tutti gli abitanti, diciamo 3-400 Bene, bene, giustamente tutti sintonizzati su Raiuno In particolare il gruppo dei Lupoli che è la nostra associazione che organizza la festa della birra La festa della birra, ricordiamo sempre la terza settimana di luglio La terza settimana di luglio La mia settimana di luglio Quanti litri di birra fate fuori? Ah, oltre mille 100 fusti Bene, bene Allora, Matito Prima domanda Poi magari facciamo anche due chiacchiere Attenzione perché la somma è notevole Qui parliamo di mezzo miliardo delle vecchie lire A voglia di birra che ci fai? Eh cavolo Andiamo Mi cavolo l'acete Esatto Eccola Di queste famiglie nobiliari Che adesso ti elencherò Quale non è associata correttamente alla città su cui regnò? Quindi la famiglia Este a Ferrara I Gonzaga a Mantua Della Scala a Verona Malatesta a Urbino E Visconti a Milano Direi, prima dico i Malatesta a Urbino Malatesta a Urbino Sono un po' strani Malatesta a Urbino Vabbiamo del XIII-XV secolo I Malatesta non regnarono, come dire Non appartenevano alla città di Urbino Ma alla città di Rimini Rimini Quindi ma la testa è la risposta esatta Della Scala a Verona Della Scala a Verona Tan grande della Scala Allora Matito, domanda numero due Ricordiamo che il vero nome di Matito è? Massimo Massimo, però per tutti Matito Per tutti Matito Non saranno pochi che mi chiamano Massimo E come mai, com'è nato Matito? Di preciso non si sa Comunque è sempre stato così Probabilmente perché una volta c'era un gelato Si chiamava Matito Probabilmente viene da di lì Prima, dunque domanda numero due La prima è andata bene Proseguiamo Quale paese non è mai stato Non è mai risultato vincitore Del maggior numero di medaglie Alla fine di un'Olimpiade? La Grecia La Francia La Cina La Svezia O la Germania Cioè Quale paese non è mai il risultato vincitore Del maggior numero di medaglie Alla fine di un'Olimpiade? Quindi il paese che non ha mai vinto Il maggior numero di medaglie Quindi sia estive che invernali Direi Dunque direi la Cina No, solo estive Ah, solo estive? Non parliamo delle Olimpiadi invernali Ah Come prima dico Cina Dico Cina 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 Come mai è Cina? Ah, perché Non so neanche se subito partecipava Da quante edizioni ha fatto Poi Le altre sono Queste azioni storiche La Cina Magari più per altri sport Non è facile Beh, la Germania Dunque la Germania Nelle Olimpiadi di Berlino del 36 Vinsero molto Ben 89 medaglie Ovviamente Come dire Spesso si vincono molte medaglie Quando poi si organizzano Le Olimpiadi della Nazione Ovviamente ha la possibilità di meglio figurare 89 medaglie 3 da 3 oro E 26 argento E 30 bronzo E la Svezia Ovviamente nelle Olimpiadi Anche quelle come dire Giocate in casa Stoccolma 1912 Con ben 65 medaglie La Francia E parliamo delle Olimpiadi Parigine Del 1900 con 101 medaglie Ebbene uno dice Ma la Grecia Che oggi certo Non è una nazione che vince molto No Ma è anche vero Che Le ha inventate lei Le Olimpiadi di Atene Del 1896 Fruttarono la Grecia 46 medaglie Mentre la Cina E' arrivata terza Nelle ultime Olimpiadi di Atene 2004 Ma non ha mai Come dire Non ha messo la valazione Che ha avuto più Olimpiadi Rispetto a tutte le altre E quindi la risposta è esatta E non era facile questa Andiamo alla numero 3 Saliamo Stiamo giocando Stai giocando bene Eccola Sempre per 250 mila euro Mezzo miliardo delle vecchie lire Parliamo di un brano famoso Di Gianni Morandi Banane Lampone Cosa risponde il coro Quando Morandi dice E che sono un po' geloso Dici Ore Scemo Vero Mia Mi sembra di ricordare scemo E che sono un po' geloso Scemo Aspetta eh Scemo un po' geloso Scemo Te la canto magari ti aiuta Sì Male te la canto Ma magari Com'è che fa più o meno Lo sai Ok io non è che Com'è che fa Sono più o meno Banane Sì no dimmi Scemo 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 Dico scemo Scemo Eh diciamo scemo Sentiamo Pezzettino E che sono un po' geloso Scemo 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 La ventilazione era un'altra Però Ringrazio il pubblico per l'aiuto Grazie Bravo Matito Attenzione 3 su 3 3 su 3 Domanda numero 4 L'ultima con la doppia risposta Stiamo andando alla grande Matito Ieri abbiamo vinto Poi tra l'altro Sono state vinte 50 mila euro Quindi vuoi vedere Che è il momento buono Ecco Per le italiane Un marito ideale Oltre a rispettare L'indipendenza Della voglia Deve essere soprattutto Un buon casalingo Misterioso E sfuggente Focoso E passionale Sensibile Paterno E protettivo Sto donne Eh sì E' dura farle contente Anche se E' dura farle contente Oltre a rispettare L'indipendenza Hanno intervistato 500 donne Dai 18 ai 64 anni Quindi l'indipendenza Sarebbe quello che vogliono Per primo Sì 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 L'indipendenza Eh Un marito Esterioso Su Suggente Provo a dire Paterno E protettivo Paterno E protettivo Ne ho la minima idea Scusami No Lui E' un buon casalingo Annalisa Beh ha vissuto anche da solo E si è un po' raggiato Si è un po' raggiato E' misterioso E sfuggente Non tanto Non tanto Ci vede anche E' sensibile Sì E' focoso E' passionale Non si può dire Non si può dire In televisione Teodite Paterno E protettivo Bravo Matito Ah signori miei Quattro su quattro Anche questa sera Ma questa sera La cifra è notevole Mezzo miliardo Devecchierire 250 mila euro Titoli del telegiornale E poi due domande Che hanno un valore 2000 euro E 250 mila euro A tra poco Titoli Tra pochi minuti Il tigiono delle venti Le dichiarazioni del premier Sul caso Calipari In primo piano Sui sequestri Non abbiamo accettato Ricatti politici Ha detto Berlusconi Dagli Stati Uniti Esigiamo massima collaborazione Per ottenere la verità L'opposizione apprezza Le parole del premier Bush con una lettera Ciampi assicura Che ci sarà un'indagine Rapida per fare chiarezza Poi la benedizione A sorpresa del papa Dal Gemelli E la condanna Senza precedenti De lente tabacchi A risarcire la famiglia Di un morto perfumo A tra poco Il viaggio continua Nella Venezia Del settecento Io con una metà di questi Non so bene anche A bere un caffè Le alleanze Sono già precise Vabbè Non posso entrare Qualche alleanza Chi Volete Eliminare Tra Alessandro Di Carlo E Amedadoria Ritorno al presente Questa sera Alle 21 Sul Rai 1 Zero 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 a chi? Questo mese chiamatemi Philips Se acquisti un sofà Ricevi un TV Philips LCD A schermo pianto In regalo Zero Zero Potrò un sofà Al tuo tasso di qualità Ecco come viene fatto Il parmigiano reggiano Ancora oggi seguendo la tradizione artigianale Il parmigiano reggiano è assolutamente naturale Senza additivi Le usiamo solo Il latte delle nostre mucche E sappiamo cosa mangiano Loro Parmigiano reggiano Non si fabbrica Si fa Grazie Trorazzo Marbiere a domicilio Da domani Bilancia da cucina elettronica A 12,98 euro La vitalità che cerchi La trovi solo in LC1 Vital I suoi fermenti vivi Rafforzano le tue difese E restano attivi per molto tempo Da mattina a sera LC1 Vital Uno al giorno Ogni giorno Da Nestlé Ragazzo Ti avevo promesso un'auto da sogno Per il tuo diciottesimo compleanno Ed eccola qui Motore 2000 turbo 200 cavalli EDS Plus con assetto sportivo Farie anteriori autoadattativi E pararezza panoramico Allora Che ne dici? Ma fino ad allora Me ne occupo io per te Nuova Opel Astra GTC Sabato 19 e domenica 20 That's the�� Happy Casa Happy Casa, è magica, fantastica, Happy Casa, è per me, Happy Casa, è per te, è per tutti noi, Happy Casa, da General Trade, un mondo per la casa. Sarella, grazie sorella, fratello, qui non c'è verso, ma c'è la goccia, se c'è la goccia, che tentazione, sentiste come dolce cremosa, va da retro, ragioniamo, e l'acqua è stua, miracolo padre, miracolo, fa cambi di dio, il gorgonzola in vernici. Vivi la magia. Vivi la magia, no, 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 no Intorno a te. Mi ha già dato quattro risposte alle mie prime quattro domande, tutte e quattro risposte esatte, subito. Mancano le ultime due domande che hanno un valore di 2250 mila euro. Eccola, la domanda numero 5. Quindi solo uno, giusto? Solo uno, in tutti e due solo uno. Concentrati, Mattietta, perché la somma è notevole. Allora, durante il processo digestivo, in quale parte del corpo il boccone ingoiato si trasforma in chilo? Bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino. Il chilo. Che cos'è questo chilo? Beh, il chilo sarà un coso di masticato. Dopo va giù, però bisogna vedere a che punto si forma. Nello stomaco. L'esofago e faringe sono in qui. E intestino. In chilo. Il boccone. Il goiato si trasforma in chilo. E che io bisogna ricordarsi... Dico... Bocca. Bocca. Lo controlliamo tra poco. Ma non mi ricordo. Domanda numero 6. E poi le verifiche per una somma notibola. Ecco. Attenzione. Stando all'origine latina della parola, cosa dovrebbe osservare chi vuole trarre buoni auspici? Le stelle, gli uccelli, le foglie, i gatti, la cenere. Vedi che c'è auspici, tra virgolette. Quindi questo termine auspici. Quindi, buone auspici. La legge nel latino... Auspici, auspici. Auspici non saprei neanche... Devo ritavare un'altra parola. Le stelle mi sembrerebbe troppo facile. Se vanno con le stelle... Queste una volta guardavano le stelle... Auspici. Ricordava cosa gli auspici, auspici. Auspici. Non mi viene in mente niente. Cosa dovevano osservare gli auspici? Gli auspici. Gli auspici. Sono deciso tra uccelli e foglie, direi. Auspici, uccelli. Provo a dire auspici. Cosa c'è un uccello che si chiama auspicio? La risposta? Dico foglie. Foglie. Lo so. Cosa dici, Annelisa? Io avrei detto uccelli. Tu avresti detto uccelli. Perché? Perché mi sembra che prima delle battaglie guardavano il volo degli utelli. L'osservazione di Annelisa è giusta. È giusta. L'osservazione di... Anche lui la sapeva. Anche lui la sapeva. Stava ragionando. Eh, c'è stato. Infatti, ed erano... I tempi degli antichi romani erano proprio sacerdoti che dividevano... Cioè, praticamente, osservando il volo degli uccelli, riuscivano a capire l'esito di un'impresa. È vero. Io quando ho visto la domanda ho detto questa la sapeva. Ma lei ci ha ragionato sui uccelli. Era il dubbio. Perché poi cambiate? Andiamo a vedere la numero 5, sempre per 2.000 euro. Durante il processo digestivo in quale parte del corpo il bocconi ingoviato si trasforma in chilo. Mi hai detto bocca. Annelisa, qui cosa avresti detto? Faringe, esofago, stomaco o intestino? Mi sembra che in bocca si chiamano un altro modo. In bocca si chiama bolo. Brava. Molto brava. Il bolo arriva allo stomaco. C'è un spiuteo. Domani facciamo il cambio. Domani fate il cambio o no? Brava. Il bolo arriva allo stomaco dove movimenti e succhi gastici lo trasformano in chimo. Nell'intestino tenue c'è la fase principale di assorbimento al termine della quale il chimo è diventato chilo. Chilo. E continua il suo percorso nell'intestino. Quindi intestino era la risposta. Vieni Mattito, vieni Mattito. Venite, venite. Vicino Mattito. E tutti insieme appassionatamente. Con un simpatico Mattito, diamo la linea al telegiornale. Vi aspettiamo domani come sempre su 3.1 e l'eredità. Grazie. Bjorn Sand e o Total Body. La rivoluzione nel mondo dei deodoranti personali. Berlusconi al Senato, respinto ogni ricatto su Calipari. L'appuntamento su Raiola con le verità. Buonasera Giovanni. Buonasera. Buonasera. Nostro corpo di ballo, devo dire, particolarmente dolce. Questa sera, guardate che belle uova di Pasqua. Oltre che belle e buone c'è anche una motivazione importante. Ma ne parleremo tra poco, proprio prima di cominciare a giocare. A tra poco, grazie. Buonasera, grazie. Grazie, buonasera a voi. Benvenuti all'Ere in Ita. Buonasera Giovanni. Buonasera ai nostri ragazzi, ai nostri corpo di ballo. Siamo tutti insieme qui per un motivo che è naturalmente bello, al quale teniamo e ci fa piacere di anno in anno poterne parlare. Perché anche quest'anno, da domani fino al 13 marzo, quindi questo weekend, venerdì, sabato e domenica, torna in 2800 piazze italiane l'importante iniziativa di solidarietà dell'AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Per rendere queste malattie sempre guaribili, ovviamente. Allora, versando un contributo, si potrà ricevere dai volontari dell'AIL una di queste coloratissime, buonissime uova di cioccolato. E sostenere così la ricerca e le tante iniziative, che grazie a questa raccolta fondi, potranno essere realizzate per migliorare la qualità delle cure, l'assistenza ai pazienti e alle famiglie. Ecco, allora, è importante conoscere naturalmente quali sono le piazze con le uova di pastua dell'AIL. E lo potete fare visitando il sito www.ail.it. Grazie naturalmente per il vostro contributo, molto importante anche al nome proprio dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Grazie ragazze. E ora, torniamo a giocare e come sempre, prima di giocare, lettere, 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 salutaci, baciaci. Baci, baci, baci. Baci, baci. A chi? Allora, salutiamo il signore Ermetti, 85 anni, e la signora Liliana, 78 anni, che hanno festeggiato da poco, 59 anni di matrimonio, sono di Roma. Auguri, baci, baci, baci. Auguri, auguri. Salutiamo la signora Ernesta De Roberti, di Campi Salentina, Lecce. Baci, baci, baci. E infine... Salutiamo Cristoforo e Consolata di Ottaviano, Navoli. Baci, 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 baci. Strano, Ottaviano, San Gennaro, strano questo saluto a Ottaviano. Poi li dobbiamo salutare. Allora, saluto, è venuto a trovarci il gruppo cooperativo alla finestra di Malnate Varese. Ben arrivati, ben arrivati, grazie, grazie. Baci, baci, baci. Baci, baci, baci dalla Civitina, grazie per essere con noi. Giochiamo. Giochiamo, via, via, via. Accomodatevi, accomodatevi, prego. Iniziamo a giocare subito con Pasquale, che arriva da Osta, ma è nato in provincia di Caserta, Maddaloni. Esatto. Pensionato, sposato con Assunta, tre figli, quattro nipoti. Una bella famiglia numerosa. Caro Pasquale, prima domanda. Dimmi tutto. Eccola. Quando firmava un suo quadro, Van Gogh, Vincent Van Gogh, di solito scriveva Vincent e basta o l'altro? Vincent. Vincent. L'altro è Van Gogh, il cognome, parliamo di questo, ovviamente, genio, questo pittore olandese, che firmava le sue opere solo con il nome di battesimo. Era Pablo Picasso che firmava solo con il cognome. Bravo Pasquale, risposta esatta. Piero, ciao Piero, ben arrivato. Ciao Mudeus. Piero, arriviamo, eccoci in Sicilia, la bella Sicilia. Allora, Piero, vive a Messina? Sì. O è messinesi? Catanesi. Catanesi? Sì. Catanesi. E stai per tornare, tra l'altro, nella sua città. Sì, rientriamo nella terra d'origine. Rientriamo nella terra d'origine. Più precisamente in una città molto bella, che è a Cireale. Quindi ne approfittiamo per salutare quanti ci seguono, ovviamente, da Cireale. Colonnello dell'esercito, ora in pensione. Qualche anno fa. Sì, attenzione, colonnello. Sposato con Grazia, che è qui. Buonasera, Grazia. Presidente, buonasera. Buonasera, Grazia. Due figli, vero? Sì, sì. Francesco? Echetti. Echetti. Minimo sforzo, massimo risultato. Masch e femmina, l'ideale. Domanda, Piero. Quali ossa del corpo umano sono dette fluttuanti? Le vertebre o l'altro? L'altro. L'altro. Le costole, esatto. Sono dette fluttuanti. Bene, Piero, risposta esatta. Manuela, ciao Manuela. Ciao. Allora, Manuela arriva esattamente dalla provincia di Trento, ovvero... Da Grumo San Michele all'Adige. Grumo San Michele all'Adige, finanzata con Stefano. Sì. Partecipa, tra l'altro, per una scommessa con il papà che si chiama? Mauro. Mauro, dov'è il papà? Eccolo lì. Eccomi qua. Salve, Mauro. Perché Mauro, come dire, è un fan innamorato della Civitill e quindi dice, se giochi tu, io almeno la conosco. Eh, 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 giustamente. Bravo, hai detto bene. Hai visto, Mauro. Allora, Mauro, ma mettiamo il papà vicino alla Civitill? Mettilo lì. Sio. Ah, guarda, ve lo dico almeno. Sei il mitico. Ma ci mancherebbe, Mauro. Arriva da Trento, scusami. È venuto apposta. È venuto apposta. Non ho capito. E, Dostrae, Manuela, rimani un po' però. Eh, mi ricordo che c'è subito. Armetto che lui guarda tutta la puntata. Ah, quindi te ne vai a Trento a sola e torni a casa. Esatto. Ma tu intanto vai che arrivi. Tu intanto vai. Attenzione. Ecco la domanda. Per tenere pulita e scorrevole la piastra del ferro da stiro, bisogna strofinarla con aceto caldo, questo lo sanno le mamme, le nonne, e cos'altro? Sale o l'altra? L'altra. L'altra. Pepe? No, sale e aceto sciolgono le incostrazioni calcare. Ai, 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 un errore. Papà Mauro è preoccupatissimo. Non t'azzardare a fare un altro errore. Ecco lo segnalato. Antonella, c'è Antonella. Antonella da Ancona. 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 Ancona, Ancona? Ancona, Ancona. Ancona, Ancona, liquidatrice per un gruppo assicurativo, sposata con Fabrizio, due figli, ed è accompagnata da un'amica però, vero, che si chiama? Buonasera, sono Noemi. Ciao a tutti. Noemi, ciao Noemi, ben arrivata. Allora, Antonella, la prima domanda è la seguente. Che cosa significa in latino il verbo tango? Condurre o l'altro? Condurre. Condurre. L'altro è toccare. Tangis, infatti non mi tange, la cosa non mi tocca. Tango invece è toccare. Un errore, Antonella. Ti tocca. Ecco l'ho segnalato. Italo, il nostro vice campione, con i suoi baffoni, da Buenos Aires. Argentino di nascita, ma vive, abbiamo detto, da poco, da due anni e mezzo, cittadina, provincia di Padova, per 14 anni, ricordiamo, è stato ufficiale della marina mercantile e ha girato tutto il mondo. Segui le verità anche in Argentina, perché ci arrivano lettere da ogni parte del mondo. Prima di venire qui in Italia, sebbene dai miei genitori ho imparato a parlare l'italiano, ricordiamo che i tuoi genitori sono italiani e dall'Italia si spostarono molti, molti anni fa per andare in Argentina. Esatto. Allora, per inserirmi dentro la società italiana, per capire un po' la cultura, eccetera, guardavo l'eredità. Ricordiamo, tra l'altro, che questo quiz, l'eredità, deriva da un format argentino. Sì, mi sembra di sì. Che è legato. È legato. È legato, è legato. È un format, come dire, che in Argentina ebbe un buon successo e quindi da questo format originale argentino, molto diverso dal nostro, dove ci sono 12 concorrenti, ma molto divertente, è stato preso proprio questo quiz che è diventato in Italia, appunto, l'eredità che in Argentina fa così è legato. E quindi, insomma, in qualche maniera dobbiamo ringraziare l'Argentina se c'è l'eredità in onda su Rai 1. Attenzione, Italo. Nell'Ottocento, le guardie carcerarie erano chiamate Secondini, perché sempre al seguito dei detenuti o l'altro? L'altra. L'altro del capo carceriere, che era il responsabile del carcere, Secondini, o le guardie carcerarie con ruolo subalterno rispetto al capo. Ecco perché Secondini. E la risposta è esatta. Ed ecco c'è il nostro campione, Mattito. Ciao, buonasera a tutti. Caro Mattito. Ciao a tutti. Come va bene? Tutto bene. Ecco perché ieri 2.000 euro, come diceva il tuo finanziario, eri proprio lì. La risposta è... C'è caduto sull'uccello. Sì, è sempre, insomma... Uccello, oh, fra i cittadini. Nei quiz gli uccelli fanno strage. Si ripigliano la rivincita, mi dite. Allora, Mattito, lo ricordo ancora una volta da Villa Vezzano, frazione di Brisighella. Mattito, tu me lo pronunci meglio di me? Villa Vezzano, frazione di Brisighella, provincia di Ravenna, cuore della Romagna. Bravo, cuore della bella Romagna, laureata in ingegneria gestionale, lavora in una società di ingegneria e si occupa di qualità. Sì, profitto per salutare i colleghi e ringraziare soprattutto i responsabili che mi hanno dato l'opportunità di essere qua. Di essere qua, perfetto. Allora, Mattito, lo diciamo, il vero nome è Massimo, ma da sempre conosciuto come Mattito, o Mati, semplicemente Mati. Matti, prima domanda. Dove si trova Bali? Non so se ci sei stato. No. Una delle mette esotiche preferite dai turisti. Purtroppo no. Purtroppo no, purtroppo meraviglioso. Si trova in Indonesia o l'altro? In Indonesia. In Indonesia. L'altro è in Thailandia? No, è in Indonesia. Fate un bel viaggio. Magari in caso di vincita, eh. Secondo giro, Pasquale. Guarda Pasquale, tu sei di Caserta. Questa è la pane tua, perché a Napoli si dice, tenne, come pronuncio tu, tenne a neve in da sacca. 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 Che va di fra i fredda. Perché? Perché si diceva così? Perché non si scioglie sempre. La neve si scioglie. No, perché si scioglie subito. Quindi deve correre immediatamente a fare quello che doveva fare. Prima che si scioglie la neve. Prima che si scioglie la neve. Perché nel tempo che dice, tenne a neve in da sacca. Non si scioglie la neve. Esatto. Guarda, i proverbi napoletani sono geniali. È il massimo. È vero, è il geniale. Bravo Pasquale. Piero. Eccomi. In una famosa canzone, Furia, Mal. Sai, Furia, come al mondo di West? Quello lì. Mal cita il nome di un personaggio americano. Chi? David Crockett o l'altro? Cì, David Crockett. David Crockett. L'altro è il generale Custer. Risentiamo il mio amico Mal. Grande Mal dei Primitives. Prego. Giusto e zitto, sono il geniale. Il capo dei bui cani, sono dei ricordi di Dio. È bella, è cosa è. Bella, bella. Un successo fu incredibile. Un grande successo. Bravo Piero, risposta esatta. Anuela, hai un errore. Non devi commettere il secondo. Da Trento a Miano non è che per carità sia la fine del mondo, però sempre un bel viaggio, eh, no? Sì, ma poi ne vale la pena, ormai siamo qua. Siamo qua. Siamo qua dieci giorni. E sta a sentarvi, insieme alla Civitillo. Dieci giorni, un viaggio, un'iscrizione. Buona cosa, arrivi tu due ruoli a casa. No, no, no. E papà non si può. Non si può. Domanda. Vai. Pensa come sei tranquilla adesso e ne rispondo. Dopo che ti ho messo stanzi addosso. Giambattista Basile, nel 600, scrisse il libro L'Occunto degli Conti, di che si trattava? Di regole matematiche o l'altro? L'altro. L'altro, le favole, significa il racconto dei racconti, ed è una delle prime raccolte di favole realizzate in Italia. E la risposta è l'altra. Buona mamma. Antonella, anche tu hai un errore attenta. In quale ambiente si può trovare un seracco? Nel deserto o l'altro? L'altro. L'altro, un ghiacciaio. Il seracco è proprio un blocco di ghiaccio, originario, originato dal frantumarsi dalla superficie di un ghiacciaio. Un bel bloccone di ghiaccio. Brava Antonella. Italo. Dimmi. Prima di diventare quello che è poi diventato famoso nel mondo, come era soprannominato il calciatore brasiliano Pelé? Benzina o l'altro? L'altro. L'altro. Oro nero. Era soprannominato gasolina. Cioè benzina, perché lavorava proprio in una stazione di servizio, lo chiamavano gasolina. Italo un errore, eccolo. Ai 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 ai. Ai ai ai. Ma Tito, nel titolo del film Magnum P.I., vedevi Magnum P.I. qualche volta? Qualche volta, sì. Cosa stanno a significare proprio la P e la I e l'ai? Polizia investigativa o l'altro? Polizia investigativa. Polizia investigativa. L'altro è investigatore privato. Magnum P.I. sta proprio per investigatore privato. C'è quarto investigato. Sì, sì. Interpretato da Tom Selec, telefilm degli anni Ottanta, che ebbe all'epoca un grande successo. Un errore a matito. Allora, l'ho segnalato. Pasquale. Castagnette, campanelli e crotali. Castagnette, campanelli e crotali. In quale luogo si possono incontrare? Tutti insieme. In un rettilario o l'altro? L'altro. L'altro. Museo della musica. Sono strumenti musicali. Quindi la risposta è esatta. Bravo Pasquale. Le castagnette sono delle nacchere. I campanelli delle piccole campane e i crotali, antichi strumenti a percussione. E anche un serpente, ecco perché uno poteva pensare a prezzare ai rettilenti. Bravo Pasquale, non sei caduto nel tranello. Piero. Quale sigla può comparire su una bottiglia di brandy invecchiato più di 12 anni? V-S-O o l'altra? L'altro. L'altra. V-E-C. Allora, è una sigla che si riferisce al cognac o al brandy che ha tra i 12 e i 17 anni di invecchiamento. E sta per Very Superior Old. Quindi V-S-O. Quindi vecchio, sono un vecchio di categoria superiore. Un errore, Piero. Eccolo segnalato. E' molto combattuta, devo dire, questo primo gioco. Manuela, come prima, è un errore. Tra Dolce e Gabbana, chi ha meno capelli? Domenico Dolce o l'altro? Domenico Dolce. Domenico Dolce. Il Kapok è un materiale usato per imbottire i giubbotti di salvataggio. E si ricava da cosa? Da uno vino o l'albero. O la... No, no, no. Vai, no, no! Ho l'albero. Fammi salutare. Satucci, buonasera! Buonasera! Porto anche i saluti del notario. Eh? Porto anche i saluti del notario. Porta i miei saluti al notario. Il notario porta i suoi saluti a te dicendo che dovremmo fare un'altra domanda perché ti è sfuggita... Mi è sfuggita l'opzione coperta. Esatto. Ah, si è sentito? Si è sentito. Ah, si è sentito, si è sentito. Lo dobbiamo, però. Ed era, allora, vediamo, ahimè, era l'albero, ovviamente l'altra versione scoperta. Quindi dobbiamo ovviamente annullare quella perché deve rimanere coperta. Boccaccia mia, stati zitta. Ecco la domanda. Boccaccia, accendi il televideo Rai, seleziona la pagina 201 e troverai tutte le notizie di calcio o non può? Di calcio? Di calcio. L'altro è economia. Sono contento che date risposte esatte, se non mi stai sentito in colpa. Brava! Idolo! Vai! Nel 1947 Kenneth Arnold fece uno strano incontro. È considerato il primo uomo ad aver avvistato cosa? Lo Yeti, Geti, Yetai, come dir si voglia, sono lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi o l'altro? L'altro. L'altro, gli UFO, esatto, durante un volo allo stato di Washington vide nove velivoli in formazione e li descrisse come dei piatti volanti, da noi detti dischi, e da lì iniziò il famoso mistero degli UFO. Brava, risposta esatta. Ma bravi tutti perché è molto combattuto, eh? Mattito, attento, è un errore. Quale film di Leonardo Piraccioni uscì nelle sale nel 95? Il ciclone o l'altro? Il ciclone. Il ciclone. L'altro e i laureati. Non c'è molta differenza dai due. Uno nel 95 e uno nel 96. Quello che uscì nel 95, però, fu i laureati. Ai, Mattito, doppio errore. Doppio errore del nostro campione, ma devo dire, è un primo gioco molto combattuto, quindi complimenti a tutti i nostri concorrenti. Ora vediamo, Mattito, contro chi andrà a puntare il dito. Assolutamente. Allora, sempre per far felici i miei amici da casa, guardano la TV. Sì. Contro la Antonella. Antonella, ah sì, allora dovete sapere, Antonella è un, come dire, un complimento. Lui contro tutte, come dire, le belle presenze femminili, perché tutti gli amici da casa dicono. Ah, ecco. E capito, non vogliamo vedere solo te, Antonella. Tutti c'erano, tutti c'erano di vedere Antonella, senza volerne il basso di Italo. E certo, lui dice, se io dovessi uscire, almeno rimane, come dire, una bella donna, ma io me ne vado, quindi lo fa proprio per cavalleria. I miei amici da casa. Eh? Per i miei amici da casa. I miei amici da casa sono contenti. Eh, certo. Eh, è bello. I miei amici no. I miei amici no, è certo. I miei amici no, come lo mettiamo? Allora, duello tra Mattito e Antonella. Allora, attenzione Antonella, lettera A, B o C? Ah. Andiamo a vedere se trovi la domanda giusta. Via la B, via la C. Primo duello della serata. Principe, e non Principe, Principe, Galeotto, è il sottotitolo di quale opera letteraria? Il Decameron, la Gerusalemme liberata o l'Orlando Furioso? Non sono stata molto fortunata. No, no, non era sicuramente la più facile. Principe, Galeotto. C'è una citazione dantesca, nel senso che questo libro dal suo toro è stato considerato Galeotto citando proprio il quinto canto. della divina commedia dell'inferno, Paolo Francesco, in cui si disse Galeotto fu il libro in cui lo scrisse e fece nascere appunto l'amore fra Paolo e Francesco. E questa persona, che era un ammiratore sfegatato, se si può dire, di Dante, in realtà era Boccaccio, che nel suo Decameron scrive nel premio, comincia il libro chiamato Decameron, cognomato Principe, Principe, Galeotto. Principe, Galeotto. Mi dispiace Antonella, la risposta esatta della Decameron non era sicuramente la più facile delle tre che mi sono stata fortunata da questo punto di vista. Consegni la tua parte di eredità a Matito, che invece continua e sale a 100.000 euro. Ti regaliamo il videogioco dell'eredità. Grazie per essere stata con noi, a te la tua amica e un bacione ad alcuna. Sei stata con me, la facciamo Antonella. Allora, Italo, subito, vero o falso? Vero o falso? Partiamo da te. Partiamo da te. No, io te lo dico, Manuela, perché se dovesse capitare a Matito che fa il doppio errore, tocca a te dopo. Vabbè, immagino. Ti metto in preallare e lui punta contro le ragazze. Sta pronta? È già pronta, vedi lei? L'ho avvisata per connesso. Fatto bene, fatto bene, non mai la regola è quella. Fatto bene, no? Allora, Italo, dimmi. Ti chiedo, nel 1878 il quotidiano Il Messaggero si chiamava Il Messaggero. Vero o falso? Vero? Vero. Era il 1878, quando usciva a Roma il quotidiano è titolato Il Messaggero, che costava 5 centesimi, poi è stata tolta lei ed è rimasto come tutt'oggi Il Messaggero. Bravo Italo, ha risposto già. Ma Tito, le femmine del panda gigante sono sessualmente ricettive, mi dispiace per il panda maschio, solo due settimane l'anno, o becchi quelle due o niente. E' vero o falso? Vero? Vero. E' uno dei problemi... Purtroppo vero. Purtroppo vero per il panda maschio, ma anche per la specie che rischia proprio di estinguersi, perché metti che il panda, proprio in quelle due settimane, è fuori per lavoro e non si fa niente. Ah, è vero. E' una fortuna che non sono panda. Meno male che non sei panda, ma Tito. Brava. Ma uno dice, già ce n'è poca, poi due volte l'anno neanche quella. Beh, tutto bene? Ti vedo che hai dei colpi di tosse. Hai un po' d'acqua bisogno? Pasquale, i primi carri adibiti ad ambulanza furono disegnati dall'architetto Dio Tisalvi. Vero o falso? Falso. Bravo. Dio Tisalvi dall'architetto Pisano, che è appoggiato il battistero di Pisa. Furono istituiti le prime ambulanze su iniziativa del barone Leray in Francia. Non c'entra Dio Tisalvi. Bravo Pasquale. Bravo. Piero, su internet è possibile adottare a distanza un albero di arance. Vero o falso? È vero. È vero. Grazie a un sito internet che vuole promuovere gli agrumi siciliani. Con 80 euro si può adottare una pianta e seguire la crescita attraverso la webcam. E alla fine si possono ricevere i frutti a casa o partecipare direttamente alla raccolta. Una domanda che capita ad arancio, perché a fagiola non c'entra niente, la domanda è precisa verso Piero che è siciliano. Ma io ci vedo poco, ma quello che devo vedere lo vedo bene. Ho visto una cassetta di agrumi proprio alle spalle di Ivana e dalle dimensioni Ivana mi sembrano assolutamente siciliane. Sono di carini. Sono di carini. E quanto carinese. Aspetta che li prendo perché, mamma mia, pesano. Ma guardate che spettacolo. Aspetta, li metto qua la luce. Li metto al loro agio. Guardate che spettacolo. Queste sono le famose arance di Sicilia. E questi sono i limoni. Questi sono i limoni. Io mi ricordo... Da mangiare assolutamente. Da mangiare. Mi ricordo quando ero piccolo... A scucida. Sai che si nascondeva... Esatto. Mi ricordo quando ero piccolo, ovviamente, essendo palermitani, ricordo questi limoni meravigliosi e buonissimi. Ma chiedevo l'indirizzazione... Il signor Giuseppe Zingale. Sì. Perché mi hanno delegata, sì, e mi hanno delegata per apportarti questo maggio. Grazie, signor Giuseppe Zingale. E poi anche questo calendario che è sulla baronessa di Carini, che mi ha dato l'assessore alla cultura e al turismo, il dottor Pino Armenio. Sì, città di Parini. E con l'America dietro che ti hanno voluto... Grazie, grazie, dottor Armenio. Grazie, dottor Pino. Tutto molto gradito. Io vedi di andare a Carino un po' più spesso. Eh, mi dai una volta una cazzata. Bravo, metti una cazzata, qua c'è l'angelo molto. I cannolini. I cannolini, vai a Carini. Piano piano, nel che posto... Eh, va bene. Questa cazzetta non puoi capire quanto ti costa. Lo immagino, è pesante. Grazie, grazie, dottor. Sì, la metto lì, grazie. È un bacione a tutti a Carini. Grazie, grazie. Meraviglioso. Quindi a proposito di arance belle dalla Sicilia, eh. Quella al limone che tu hai visto, in diretto catanese, si chiama Piretto. 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 E' solo da mangiare. E' da mangiare. E' buonissimo proprio da mangiare. Con sale o con bicarbonato. E' vero, bravo. Col sale, mi ricordo quando ero bambino, a fette o col binario. E quando io ero bambino, lo si vendeva nelle sale del cinema, eh. Sì. A fette, con un po' di sale o bicarbonato, a scelta dell'ospettatore, è esagerato presto di 5 lire. Pensate un po'. Queste sono delle cose meravigliose che abbiamo noi nella nostra bella Sicilia ed è giusto parlarne e promuoverle perché ce le invidiano in tutto il mondo. Quindi grazie ancora, grazie, grazie Ivana. Manuela. Eire o Aire, l'altro nome dell'Irlanda, è una sigla che significa uomini liberi dalla corona. Vero o falso? Vero. Falso. Falso, Manuela. Un errore, però è un errore, eh. È un errore. Eccolo, signorato. Vuol dire probabilmente terra dell'ovest. Italo. Chi pratica lo yoga è uno yogi. No, falso. Vero o falso? Falso. E invece è vero. Non nel senso di... No, 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 in lingua indi, lo yogi e... praticamente è il maestro di yoga che pratica lo yoga, detto yogi o yogi, un errore italiano, eccolo segnalato, ma Tito in Vaticano se una guardia svizzera vede un cardinale che fuma lo può multare, vero o falso? Vero, bravo, sono i cartelli con scritto vietato fumare, quindi possono multare di 30 euro a chiunque non tenga conto del divieto istituito, con una legge del 2002 d'entrata in vigore dal primo luglio successivo. Bravo, ma Tito risposto esatto. Pasquale, stando ai calcoli degli scienziati, la terra pesa circa 6 mila miliardi di tonnellate, vero o falso? Falso. Bravo, falso. Molto di più credo, insomma, 6 mila miliardi di miliardi di tonnellate. Ovviamente, penso, posso quasi quantificare. Piero, i primi cinesi a usare bustine da tè furono i muratori che stavano costruendo la grande muraglia, vero o falso? Vero. No, falso. Anche se il tè bevuto per la prima volta in Cina risale a 5 mila anni fa, la bustina ha fatto la sua comparsa solo nel 1903 per merito di un commerciante americano e naturalmente la muraglia sono stata costruita molto prima. un errore, Piero. Ai, 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 ai. Manuela, attenzione. Sì. Bene che stiamo tutti così. Eh? Dici, che è successo? No. Eh? Stavo facendo un autografo. Mi hanno chiesto un autografo. Sì, certo. Era urgente. Sì, mi ha chiesto l'assistente di studio. Allora, ha chiesto Guido? No. Ah, no. Elisa. Elisa. Ah, Elisa, Elisa, Elisa. Va bene, no. Mi hanno chiesto. Sì, sì, ci mancherebbe, volevo solo sapere. Posso andare? Sì, sì, vai. Bravo. Bravo. Allora, Manuela. C'ho già un errore, sto attenta. C'ho già un errore, sto attento. C'ho già un errore, non ne pare due. Il papà è lì, mi raccomando, parliamo di coniglio, tra i peli del coniglio può annidarsi un piccolo acaro chiamato forfora che cammina, vero o falso? Falso. È vero. Manuela, doppio errore. Guardate la faccia del papà. Neanche il mio padre era a questa faccia quando venivo bocciato a scuola, credi me. Neanche lui c'era la sua parola. Allora, Manuela. Contro chi puntiamo io? Tutti signori, tutti mascoli. Piero. 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 Quello quindi tra Manuela e Piero. E vediamo che va a finire. Pronto Piero? Pronto. La Sicilia ed Italia? Mamma mia. Mamma mia. A, B o C? B. B. Andiamo a vedere. Secondo una ricerca, quanto sono alte, mediamente, le nostre donne, le italiane, tra i 18 e i 40 anni? 164,72. Quindi un metro e 64, quasi un metro e 65. Un metro e 66, e 1,52 è un pezzettino. Un metro e 67, quindi insomma ci avviciniamo quasi al metro e 70. è una ricerca effettuata da un istituto confrontando altezza, peso, taglia e massa corporea delle italiane degli ultimi 50 anni e oggi le donne tra i 18 e i 40 anni sono alte e mediamente una ripresenta 167,60 167,69 quindi come dire, un'altezza considerata abbastanza alta quindi con le donne più alte rispetto a quello che uno cosa mi sti detto Manuela? 166,52 166,52 non è quindi andiamo agli estremi o sono 1,64 o 1,67 ovviamente vediamo pesano in media 58,5 kg 59 e la risposta esatta è 1,64,72 Piero mi dispiace mi dispiace mi dispiace un sospiro di sollievo per Manuela naturalmente che continua l'avventura Piero va bene sei caduto sulle femmine va bene va molto bene va molto bene Piero e consegna a Manuela la sua parte di edità quindi Manuela sale a 100.000 euro e continua a giocare grazie Piero buon ritorno nella bella Sicilia grazie sei stato eliminato ciao Piero Manuela lì allora patata bollente non subito tra pochissimo quando riprenderemo a giocare è questione di pochi minuti grazie a tra poco allora stiamo tocando all'eredità è il momento della patata bollente 4 concorrenti rimasti vediamo che arriva la scossa iniziamo con Manuela queste le tue 3 opzioni di risposta che sono il vulcano Etna la città di Enna la valle dei templi la passo a chi è Italo la passi a Italo attenzione Italo 5 secondi per rispondere allora il poeta greco Callimaco definì onfalos della Sicilia cioè ombelico della Sicilia cosa? il vulcano Etna il vulcano Etna che si trova proprio nel centro della Sicilia ed è proprio l'ombelico della Sicilia no non si trova al centro della Sicilia a Catania è la città di Enna che si trova alla città ah no no è vero il vulcano Etna anche io pensavo al vulcano che fosse l'ombelico della Sicilia abbiamo pensato la stessa vada a prendere il mappamondo ti serve no no grazie brava te lo sei veritato te lo sei veritato così te lo sei veritato non mi posso capire non lo sei veritato è vero strano perché raramente in geografia poi sulla Sicilia figurati certo no Enna è nel centro della Sicilia non Etna Enna è nel centro della Sicilia e quindi come dire in quel caso è l'ombelico del mondo e il vulcano Etna potrebbe ricordare un ombelico ma in realtà non è così Italo non potevi dire la città di Enna ed evitavamo tutti i problemi scusa alla prossima un errore tu e facciamo la figura io a posto siamo ecco lo segnalato grazie Matito Umberto no sei per Italo Italo possiamo ripartire dalla pubblicità grazie Italo mi fermo da te sono qua Umberto Salvo Aristide Manuela eh certo restituisci il favore giustamente giustamente Manuela tra le dinastie del circo quella dei Togni è una delle più celebri come si chiama il capo stipite Umberto Umberto Togni cosa avresti detto Italo non lo so mi sarei più salutato eh allora ehm ero un impiegato del comune e nel 1872 fondò un circo circo Togni circo bellissimo devo dire da sempre il capo stipite era però Aristide eh non Umberto eh mi dispiace Manuela un errore ecco segnalato Matito si è addormentato ha abbaiato ha baciato il giudice ma la dò alla mano alla mano ma non lo butta o vogliono far fuori te o vogliono rimandare papà a casa uno dei due allora all'avvocato David Fink è stata inflitta una multa di 8500 dollari sarebbe una bella somma perché durante un processo che ha fatto si è addormentato si è addormentato sarebbe forse stato meglio pensate che questo avvocato è accaduto lo scorso maggio a New York finché era stato chiamato a deporre davanti alla corte suprema di Manhattan la controparte dell'altro avvocato eh lo ha un po' offeso dicendo tu non sei un avvocato normale tu sei un avvocato cane pazzo e l'altro ha abbaiato si è messa da abbaiare è stato un bel simparietto e l'hanno multato e poi con la coda tra le gambe si è rimessa a sedere Manuela questo vuol dire doppio errore ahiaia che dobbiamo fare Manuela vuoi che papà non arrivi quantomeno alla scossa io non dico tanto almeno alla scossa eh quindi non puoi contro chi punti il dito Italo Italo duello Emanuele a Italo pronto Italo? sempre bene avvio C C di fortuna bene ci vuole dico sempre questo gioco come nella vita chi è che ha fatto la comparsa se ne è parlato eh se ne è parlato come schiavo nel film Ben Ur Fabio Testi Lando Buzanca Pippo Franco lui in più di un'intervista lo ha ricordato Silenzio Studio ho visto Ben Ur Ben Ur del 60 più o meno Fabio Testi Fabio Testi Fabio Testi come dire anche la stazza un attore atletico cosa avresti detto Manuela? non è cosa la pazza lo ricorda? che cosa se lo ricorda? Lando Buzanca Lando Buzanca oh papà vuol rimanere a tutti i costi risponde lui e ha detto bene Lando Buzanca Lando Buzanca Italo non è Fabio Testi un attore per il papà un attore per il papà Italo consegna a Manuela la sua parte di eredità e quindi naturalmente Manuela sale ecco qua i soldi 150.000 euro continua a giocare grazie Italo per essere stata con noi grazie a voi altri hai lei sei stato eliminato grazie buonasera ciao Italo Mattito Pasquale Emanuela attenzione finalmente ce l'ha fatta io devo dire che forse a questo punto la cosa migliore è far ballare anche un mambo con Giovanna eh Manuela? sono la negazione più totale non c'è problema perché quando ballo io sono negato uguale quindi va bene non preoccuparte sai cosa voglio vedermela bene ah la vuoi vedere così c'hai ragione da rilassare perché distrarsi hai perfettamente ragione e allora sarà una grande scossa Giovanna allora benvenuti alle eredità tra poco buonasera Giovanna buonasera altrimenti vi aspettiamo per giocare insieme ma come sempre l'apertura delle eredità cosa ci sarà? baci 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 vi aspettiamo a tra poco eccoci qua buonasera 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 Giovanna buonasera allora beh ieri devo dire grande puntata dell'eredità grazie eh ai nostri concorrenti in maniera particolare a Guia questa ragazza giovanissima di Roma ha 18 anni bravissima è rimasta con noi 7 puntate e al e proprio ieri ha portato a casa 50.000 euro 100 milioni delle vecchie lire con grande merito perché ha dimostrato di essere tanto giovane quanto brava e preparata andiamo a rivivere proprio gli ultimi secondi di ieri sera da pelle d'oca guardate per 50.000 euro 100 milioni delle vecchie lire la risposta esatta è come il miro ammiraglio è un fatto 50.000 euro brava 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 buia brava campionessa campionessa brava veramente brava questa ragazza siamo proprio contenti per lei quindi da questa sera puntata completamente nuova con sete concorrenti e vediamo che cosa accadrà baci 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 allora facciamo gli auguri di buon compleanno a Federico che compie 5 anni di San Nicola a Manfredi Benevento baci 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 poi salutiamo le fedelissime Martina 9 anni e Alice 3 anni e mezzo che ci seguono tutte le sere baci 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 a tutti i bambini e a tutte le bambine che ci seguono poi salutiamo e ringraziamo di questi due disegni aiutami scuola sì come lo prego devo far vedere questi due disegni benissimo veramente Letizia 6 anni e il suo fratellino piccolo Lorenzo di Milano uguale stavamo uguali veramente grazie baci 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 e poi aspetta ne approfitto per salutare un gruppo di Borgo Sesia e di Biella che sono venuti a vedere la trasmissione ben arrivati ben arrivati pronti giochiamo 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 prego prego accomodatevi i nostri concorrenti di oggi primo concorrente esattamente Matito Matito il maschile di Matita proprio lui Matito proprio Matito Matito non da sempre però sei stato anche Pennino sei stato sempre Matito sempre Matito sempre Matito spero di esserlo ancora un batto per tutta la vita perfetto Villa Bezzano frazione di Brisighella Ravenna laureato in ingegneria gestionale lavora in una società di ingegneria che si occupa di qualità si bene ho pianzato con l'analisa da quasi tre anni si ti chiama Matito anche lei mi chiama Matito anche lei beh dipende dalle volte dipende dalle volte dipende dalle volte certo ma Matito va bene quando si dice Matito va bene certo nell'intimità lo chiami Matitino o Matitone no che no no che no no voglio dire uno dei giornali più famiglia cristiana nasce nel 1931 durante il fascismo addirittura nel 31 il mondo settimanale di politica fondato nel 1949 poi dal 1969 si occupa di economia e finanza perfetto Grand Hotel famoso per i fotoromanzi nato nel 1946 1946 e tv sorrisi e canzoni nel 1952 nel 1952 e per concludere Astra mentire di astrologia nato nel 1977 nel 77 ho capito grazie ai 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 Pasquale hai preso una bella scossa alla tua destra c'è Matito alla tua sinistra Manuela contro chi punti di Matito Matito cavalleriscamente Pasquale lascia tranquilla Manuela che sicuramente quindi va all'ultima sfida vediamo con chi Matito sei pronto? si A B o C dico C di Cesare che no è il mio babbo che è là che mi aspetta che vuole che torna a casa per per andare a lavorare per andare a lavorare allora vediamo la C di Cesare se porta bene quale lago italiano ha una curiosa forma di Y rovesciana il lago di Garda il lago di Como il lago di Zeo silenzio allora Cesarino dico il lago di Garda il lago di Garda Pasquale cosa avresti detto? io avrei detto di Zeo tu avresti detto il lago di Zeo eh vedi che volte io sono un grande sostenitore delle domande di geografia perché anche le cose che possono sembrare come dire più semplici in realtà poi non lo sono ed è curioso è divertente io stesso mi misuro in geografia a volte con la Civitillo come dire ci accomuna questa passione per la geografia e capiamo che spesso vogliamo vedere il lago in questione qual è? eh questo non è né il lago di Garda né il lago di Zeo il lago di Co ma è proprio il lago di Co quello è il ramo del lago di Co ai 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 Mattito sono contento con Cesare che torni a lavorare grazie Mattito naturalmente la tua parte di eredità finisce nelle casse di Pasquale che sale a 150.000 euro e continua a giocare grazie Mattito grazie Annalisa naturalmente volevo salutare solamente tutti i miei colleghi ancora e il mio nipotino Matteo che starà guardando e tutti gli amici di Riolo di Castello e Brigighella eccetera ci vediamo la terza settimana mi raccomando sto già segnato un furto solo per te grazie e tutti qua ciao ciao tutti grazie grazie stato eliminato molto simpatico Mattito allora una nuova ultima sfida tra Manuela e Pasquale attenzione accomodatevi ultima sfida ed ecco l'impostazione Manuela e Pasquale Manuela dalla provincia di Trento Pasquale arriva da Ostama in realtà è nato in provincia di Caserta 70 secondi a testa voi mi sentite bene? sì? perfetto attenzione Manuela inizio proprio da te 3 2 1 via prima domanda cosa indica il termine obbificio chiesa fabbrica o teatro? fabbrica esatto Pasquale Guilamo Tell è il leggendario eroe norvegese svizzero-irlandese svizzero esatto Manuela chi è l'autore del codice da Vinci? Dan Brown Stephen King o Umberto Eco? ecco no Brown avanti il go-kart è la versione minuscola di quale veicolo? moto, motoscafo o macchina? macchina esatto Pasquale chi è la protagonista del film a qualcuno piace caldo? Liz Taylor Marilyn Monroe Grace Kelly Liz Taylor no Marilyn Monroe avanti Lilium Candidum è il nome scientifico di quale fiore? Tulipano Crisantemo o Giglio? eh Giglio esatto manuela il leader il leader degli U2 Bonovox è nato in Inghilterra Stati Uniti o Irlanda? Irlanda esatto Pasquale andavo a 100 all'ora il primo 45 giri di iranieri Morandi o Celentano? Morandi esatto manuela come sono detti gli orecchini a goccia gemelli solitari o pendenti? pendenti esatto Pasquale di cosa ha paura un patofobo UFO promesse o malattie? UFO no malattie avanti la disco music è nata a metà degli anni 60 70 80 80 no 70 avanti che cos'è il palissandro legno metallo pesce? legno esatto vediamo la situazione 21 e 65 per Pasquale 39 e 30 per Manuela attenzione Manuela domanda Renoir era un pittore futurista impressionista o cubista? impressionista esatto Pasquale quali ossa si incrociano sulla bandiera dei pirati? tibie femori o omeri? tibie no sì esatto tibie certo pensavo ai femori ma allora 14 e 33 33 e 71 riprendiamo da Manuela attenzione Pasquale comunque tutto può ancora accadere domanda per Manuela mettere la carne per poco tempo nell'acqua calda si dice rosolare sbollentare o brasare? sbollentare esatto Pasquale cosa sono gli anfibi indossati dai militari? occhiali, guanti o stivali? stivali esatto 8 e 45 Manuela domanda la glittica e l'arte di intagliare legno gemme o ferro? gemme esatto Pasquale il rigoletto di verdi ambientato a Verona como o Mantova? Mantova esatto 3 e 61 Manuela 19 e 66 attenta Manuela domanda che animale è il simbolo dell'evangelista Giovanni? aquila leone o bue? leone no aquila avanti quale paese corrisponde all'antica regione della Dacia? Russia Romania o Belgio? Belgio no Romania avanti l'attrice figlia di Dario Argento si chiama America Asia o Africa? Asia esatto mamma mia 90 centesimi allora Pasquale ci proviamo io cercano di essere veloce nella lettura della domanda non so se è una domanda come dire lunga breve e le tre opzioni butta la risposta vediamo se ci riusciamo se mi dai una risposta esatta diventa automaticamente campione perché non riesco i 90 centesimi a fare una domanda a Manuela 3 2 1 domanda Michele Indurane è stato un grande tenista pugile o ciclista? pugile no ciclista pensa che se mi davi la risposta esatta eri campione e la campionessa è Manuela brava Manuela grazie Pasquale a domani grazie Pasquale e abbiamo la libertà brava Manuela la provincia di Trento ricordiamo ancora esattamente perché ovviamente seguono certo tutto Trento provincia fanno il tifo per te ma in particolare allora io sono di Grumo San Michele all'Adige all'Adige certo e quanti abitanti 4.000 4.000 perfetto allora tutti i 4.000 che diranno vai Manuela prima domanda via sulla banconota da 20 euro è raffigurata una costruzione in quale stile architettonico barocco rinascimentale gotico romanico o classico la banconota ce l'ho in mente adesso come adesso tirare fuori lo stile direi butterei quasi sì non te lo ricordi proprio eh beh gotico lo scarto lo scarterei proprio fra tutti rinascimentale anche ne ho due di cui sono dove hai il dubbio sarei più sul romanico e sul classico sono i due che mi più sul romanico e sul classico sì sono questi due vada vai romanico romanico è uno stile che è sulla banconota da 10 euro sto sul classico andiamo sul classico è per la verità perché tanto potresti ancora pensarsi va bene domanda numero due saliamo manuela ecco sembra per 150 mila euro stando al talismano della felicità cosa non si utilizza per preparare il ripieno dei cannoli siciliani tu sei golosa ami dolci? sì dai non eccessivamente non eccessivamente i cannoli siciliani non mi piacciono non ti piacciono troppo dolci? troppo dolci mangiato qualche volta sì sì me l'hanno portato da Sicilia a Sicilia te l'hanno mandato avevi il moroso siciliano no sono tutti dal Trentino tutti dal Trentino omni e boi dei paesi tuoi? eh sì solo te l'hanno un bel siciliano che ti dice Emanuela coprati io sono romagnolo di nascita il sangue siciliano ma perché pensate che noi siciliani diciamo copriti ho mai detto copriti io sì sì copriti e se te dice copriti un motivo ci sarà eh allora Emanuela andiamo al cannolino siciliano allora vediamo cosa non si utilizza eh quindi quello che adesso ti elenco non ci deve essere i dadini di cioccolato l'acqua di zagare le mandorle tritate la ricotta e la frutta candita allora la ricotta penso proprio che ci sia che è la base l'acqua di zagare naturalmente l'acqua di fiori d'arancio insomma sì l'acqua di zagare anche penso non so perché perché mi ricordo che quando mi aveva maratonato dalla Sicilia mi aveva portato una bottiglietta di acqua di zagare e mi era rimasta impressa bene le mandorle tritate direi anche perché la Sicilia mi è rimasta impressa mi sembra per una festa che fanno di tutti i balli una festa delle mandorle in fiore qualcosa del genere mi sembra di ricordarmi che avevo vista la televisione era un meeting che fanno dove ci sono gruppi di ballo da diverse parti del mondo la frutta candita io mi ricordo i pezzettini di arancioni andrei sui dadini di cioccolato andresti sui dadini di cioccolato no i dadini di cioccolato ho visto che il cannolo avevano tutti rimetto ma ci devono i veri quelli come di origine ci devono essere mentre non ci le mandorle tritate le mandorle tritate controlliamo dopo domanda numero 3 saliamo Manuela eccola secondo il regolamento del calcio tu ami il calcio si tifosa Juve non applaudite non applaudite che la incoraggiate secondo il regolamento del calcio cosa non può indossare una calciatrice in campo mentre gioca il reggiseno la fascia per i capelli gli orecchini il perizoma i calzoncini allora la fascia per i capelli se la mettono anche gli uomini a volte che hanno tutti loro i lastrici i lastricini i calzoncini ecco perché poi non riescono mai a segnare di testa perché pensano i capelli allora i calzoncini ce li hanno tutti se uomini che donne non penso che le faccia indeccare con la gomma il reggiseno insomma sarebbe un dramma di toccare senza reggiseno gli orecchini a me dopo non saprei in che nelle squadre a livello più meno alto insomma nelle categorie più basse a me sembra di ricordare anche dei ragazzi che hanno gli orecchini e ci mettono lo scotch perché non vengono strappati parliamo di regolamento ecco questo è proprio l'articolo 4 del regolamento che parla proprio dell'equipaggiamento il perizoma il perizoma perché? non mi so non mi so scomodo eh? mi dà l'idea di scomodo giocare in perizoma io non ho mai provato a correre con il perizoma però immagino che possa essere scomodo ma per le calciatrici no possono mettere il perizoma mentre secondo il regolamento gli orecchini gli orecchini controlliamo dopo domanda tu papà sta soffrendo tua papà domanda numero 4 ecco in quale lingua si conta fino a 10 dicendo and do tre fire fem sexy z od ok quello che abbiamo ascoltato era inglese danese tedesco adesso arrivano le opzioni francese oppure olandese che lingua era? allora sta qua ancora la doppia risposta vero? si l'ultima ok l'ultima la doppia risposta inglese no one two three tedesco neanche tedesco non lo so nine zwei drei sembrerebbe francese ma secondo me ha troppe ancora parole troppo molto troppo aggressive punterei su un olandese punterei su un olandese non è l'olandese danese danese controlliamo dopo domanda numero 5 risposta secca attenzione a Pasqua il sacerdote celebra la messa indossando come sempre una sopravveste di quale colore rosa viola bianco rosso o verde Pasqua ma la passione mi fa venire in mente il viola periodo della passione mi fa venire in mente il viola si la passione di Cristo è di re i giorni a Pasqua viola viola sesta domanda ultima eccola da quale di questi alberi non potrà mai cadere una pigna l'arice l'arice abete cedro quercia sequoia non potrà mai cadere una pigna perché praticamente come dire una di queste non è una co conifera quale di queste non è una conifera qua proprio dagli abetti si gli abetti ce li hanno punterei su era un gong mortato mi butta anche qua dove? da quale albero? da una quercia ti butti da una quercia speriamo che tu abbia fatto bene a buttarti dalla quercia titoli del telegiornale e poi dobbiamo verificare sei risposte sei a tra pochissimo tra pochi minuti il tg1 delle 20 ancora sangue e terrore in Iraq un kamikaze si fa saltare in aria a Mosul tra i partecipanti ad un funerale provoca più di 30 vittime altri 5 morti a Baghdad dove è stato ucciso anche un commissario di polizia sulle indagini per la morte di Calipari interviene Ciampi che chiede a Bush trasparenza e rapidità Giuliana Sgrena interrogata dai magistrati romani esclude la presenza di un quarto uomo sull'autocolpita dal fuoco amico ci vediamo tra poco ma era in pericolo del 2021 su Rai 1 il momento è arrivato per tutti tutto comincia con un chip che contiene una tecnologia leader nel mondo e unito a un progetto innovativo e alla purezza del design diventa un televisore lcd samsung experience the power within samsung che è molto di più le concessionarie che è molto di più ti aspettano non tutto ciò che è naturale fa bene alla tua bocca per questo Antica Erboristeria ha selezionato solo le migliori erbe nel nuovo 8 erbe l'unico dentifricio naturale ad azione completa Antica Erboristeria 8 erbe denti 8 volte più forti Tutta la vitalità che cerchi la trovi solo in LC1 Vital i suoi fermenti esclusivi arrivano vivi fino all'intestino rafforzano le tue difese e sono gli unici a restare attivi per molto tempo così ti senti in forma da mattina a sera LC1 Vital uno al giorno ogni giorno da Nestlé 0 0 0 0 a chi? questo mese chiamatemi Philips se acquisti un sofa ricevi un TV Philips LCD a schermo pianto in regalo 0 0 potrò un sofa alto tasso di qualità ti avevo promesso un'auto da sogno per il tuo diciottesimo compleanno ed eccola qui allora che ne dici? ma fino ad allora me ne occupo io per te nuova Opel Astra GTC sabato diciannove e domenica venti mai un colore di capelli è stato così intenso da testa benvenuti all'eredità tra poco buonasera Giovanna buonasera naturalmente vi aspettiamo per giocare insieme ma come sempre l'apertura delle rite cosa ci sarà? baci 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 vi aspettiamo a tra poco eccoci qua buonasera 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 Giovanna buonasera allora beh ieri devo dire grave puntata dell'eredità grazie ai nostri concorrenti in maniera particolare a Guia questa ragazza giovanissima di Roma ha diciotto anni bravissima è rimasta con noi sette puntate e proprio ieri ha portato a casa 50.000 euro 100 milioni delle vecchie lire con grande merito perché ha dimostrato di essere tanto giovane quanto brava e preparata andiamo a rivivere proprio gli ultimi secondi di ieri sera da pelle d'oca guardate per 50.000 euro 100 milioni delle vecchie lire la risposta esatta è come emiro ammiraglio è un fatto 50.000 euro brava 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 buia brava campionessa campionessa brava veramente brava questa ragazza siamo proprio contenti per lei quindi da questa sera puntata completamente nuova con sette concorrenti e vediamo che cosa accadrà baci 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 allora facciamo gli auguri di buon compleanno a Federico che compie 5 anni di San Nicola Manfredi Benevento baci 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 poi salutiamo le fedelissime Martina 9 anni e Alice 3 anni e mezzo che ci seguono tutte le sere baci 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 a tutti i bambini e a tutte le bambine che ci seguono poi salutiamo e ringraziamo di questi due disegni all'inizio come lo prego devo far vedere questi due disegni benissimo veramente Letizia 6 anni e il suo fratellino piccolo Lorenzo di Milano uguale stavamo uguali bravamente grazie baci 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 e poi e poi approfitto per salutare un gruppo di Borgo Sesia e di Biella che sono venuti a vedere la trasmissione ben arrivati ben arrivati pronti giochiamo giochiamo prego prego accomodatevi i nostri concorrenti di oggi primo concorrente esattamente ma Matito Matito il maschile di Matita proprio lui Matito proprio a Matito Matito non da sempre però sei stato anche Pennino sei stato sempre Matito sempre Matito sempre Matito spero di essere ancora un batto per tutta la vita perfetto Villa Pezzano frazione di Brisighella Ravenna il regolamento del calcio cosa non può indossare una calciatrice in campo mentre gioca prima risposta Perizoma e invece possono indossare il Perizoma poi mi ha detto orecchini d'accordo papà sugli orecchini sì perfetto qualsiasi come dire oggetto che in qualche maniera possano creare un danno all'avversario come nei vari contrasti come anelli bracciali orecchini e quindi è una risposta esatta ma ti volevo assolutamente aggiungere che a volte vi vediamo appunto con una specie di nastro una specie di cerotto sopra perché è una deroga fatta di volta in volta all'arbitro che giudica quindi sufficiente quella protezione a non causare i danni di altri giocatori però il regolamento prevede il divieto il divieto perfetto bene grazie Santucci andiamo andiamo alla numero numero 4 150 mila euro è stata brava insomma un po' in quale lingua si conta fino a 10 dicendo questo che queste qua prima risposta olandese non esatto poi mi hai detto danese vediamo se abbiamo una danese che ci dà la risposta è esatta 1 2 3 4 5 6 2 ore 9 si noi in Danimacca contiamo così hai capito Santucci ringraziamo linee del consolato danese che si è gentilmente prestata l'ha contattata Parisotto l'ha contattata Parisotto grazie Parisotto vedete poi in qualche maniera si rende utile brava Emanue siamo in zona euro andiamo a vedere la prima domanda per 2 mila euro 4 milioni delle vecchie lire sulla bancarota da 20 euro e raffigurato una costruzione in quale stile architettonico prima risposta romanico non esatto poi classico il papà che avrebbe detto c'è solo quelle da 50 complimenti complimenti vada io avrei detto rinascimentale rinascimentale Santucci beh c'è un criterio nel senso sono a seconda dei diversi tagli dal minore dai 5 euro fino ai 500 euro in ordine di tempo quindi il più piccolo lo stile classico poi il romanico poi abbiamo ovviamente il gotico rinascimentale barocco e rococò sui 100 euro 200 euro architettura del XIX secolo e 500 euro che devo dire non ho mai visto architettura del XX secolo abbiamo le 20 euro giusto che sono in stile gotico questo è proprio un chiaro stile gotico e infine la numero 5 ecco la Pasqua il sacerdote celebrava la messa indossando come sempre una sopravveste di che colore mi ha detto viola il papà avrebbe detto bianco bianco e bianco era la risposta esatta Manuela vieni Giovanna Manuela comunque è campionessa e quindi torno ovviamente domani a giocare con noi a verità su Rai 1 telegiornale grazie buona serata